Allora, ecco qua. Insomma, penso così altri due minuti li perdiamo con la mia brevissima presentazione. Tanto c'è da dire, diciamo, sui relatori di stasera, il professore Attilio Boner, nostro amico da tantissimi, tantissimi anni, anche lo stesso Ernesto Burgio, da Una Vita, che collabora con noi, con la Sips, su un tema alla stessa società italiana di preventiva e sociale molto, ma molto caro. Perché? Perché è un tema dove la prevenzione, quella che a me piace di più, la prevenzione primaria, dà il massimo della soddisfazione. Cioè, è proprio l'esempio, l'esempio più classico, se vogliamo dire, ma che cos'è la prevenzione primaria? Quello che uno ci si impegna per evitare che delle patologie non arrivino. Ma qui nei primi mille giorni, nella prevenzione delle malattie non trasmissibili, c'è qualcosa di più. Non solo uno fa l'antimorbillo, va bene, non si prende il morbillo, prevenzione primaria. Ma qui il valore aggiunto è che certe patologie non si prenderanno a distanza di 30, 40, 50, 60 anni. Questo è quello che ci affascina. Questo è, diciamo, quello che noi oggi, gli scienziati, e ne abbiamo due presenti qui stasera, i ricercatori, ci stanno facendo capire già da diversi anni. e la società italiana di prevenzione sociali, insieme ad altre società in cui collaboriamo nel campo della prevenzione, ma non solo dell'area pediatrica, della ginecologia, eccetera, è un qualcosa di importante che ci teniamo talmente a cuore perché, diciamo, impegnarsi in quella finestra di cosiddetti primi mille giorni, da prima di nascere, ai primi due anni di vita, ma diciamo nei primi anni di vita, permette a distanza di anni, quindi un pediatra. Un buon pediatra è quello che agisce nella maniera di avere un nonno sempre più sano. Pensate un poco il ruolo nostro del pediatra. Pensiamo un poco alla nostra grande responsabilità che abbiamo nelle mani. Non il bambino, non solo il bambino, l'adolescente, ma l'uomo di domani, l'adulto di domani, il nonno di domani. Improvviso il nonno, così parlando, gli è venuto un poco di diabete. C'ha una goccia di diabete, come dicono da noi in Campania. Bene, come mai? Oggi potremmo rispondere con sicurezza, forse quel nonno non avrà avuto un buon pediatra o almeno non ha messo in atto tutte quelle armi, quelle potenzialità che un buon pediatra oggi poteva mettere e deve fare. Quindi noi lo sappiamo, 50 anni fa non lo sapevamo, oggi lo sappiamo e dobbiamo impegnarci a fare questo. E allora sì che si può arrivare a 10 a 120 anni, certo, nel modo migliore, senza le cosiddette patologie non trasmissibili, senza o almeno abbassare quelle tante patologie croniche, lo possiamo fare e questo lo può fare in primis un buon pediatra che ha nella sua forma mentis la prevenzione, la pediatria preventiva e sociale perché sia è un fatto sia di prevenzione che è un fatto sociale. E allora, tanto per cambiare, c'è cara Di Mauro, si sta investendo di ancora di più delle nostre responsabilità, ne abbiamo tanti, abbiamo anche la responsabilità dei nonni, abbiamo anche la responsabilità dei nonni. E così, raccontato un po' il fattarello, come si dice, di questa serata da parte mia, entriamo in modo serio, in modo da toccare con mano veramente quello che conosciamo, quello che soprattutto poi col professor Attilio Bonner può fare il pediatra. E io dico di più, perdonatemi, deve fare il pediatra, perché se uno non sa, bene, è giustificato, ma se oggi noi sappiamo, dobbiamo fare, altrimenti, diciamo, non è corretto, non è giusto. E allora inizia il dottore Ernesto Burgio, lo ringrazio molto, è un ricercatore, uno studioso che da anni, da molti anni, forse tra i primi, che ci ha parlato di queste problematiche e con un tema, diciamo, iniziamo da come da apripista e poi da Rai là al professor Bonner per entrare nella praticità, partendo dall'obesità, diabete e disturbi del neurosviluppo, dalla genetica all'epigenetica, cosa deve sapere il pediatra e poi vediamo col professor Bonner, cosa deve fare il pediatra. Ernesto, ti ringrazio, complimenti sempre, ti ringrazio di cuore per essere sempre vicino a noi e la tua grande disponibilità. A te, diciamo, 30-40 minuti, quelle che ti servono per farci questa panoramica. Ti ringrazio molto. Prego. Bene, grazie a te, grazie a voi. Facciamo così, io ho preparato quello che mi avevi detto, però io comincio. Mi fermi tu quando vuoi che io mi fermi, perché il tema è talmente ampio, è talmente difficile per me in questo momento, perché io sono come tutti quanti da mesi, parlo soprattutto di virus e di covid, per cui tornare a parlare di origine fetale delle malattie e di epigenetica non mi è facilissimo. Siccome qualche giorno fa c'è stato il congresso mondiale sugli origini materno-fetali delle malattie e io ho fatto una relazione che era un modo per collegare la teoria delle origini fetali delle malattie e la covid, avevo pensato di far questo e pensavo di farlo alla fine di questo incontro, anche perché indubbiamente Attilio è un grande clinico e la sua parte sarebbe stata, forse, cioè per me sarebbe stato meglio fare, come dire, una sorta di aggiunta alla sua relazione. E allora io adesso invece mi adatto a fare il quadro generale e lo faccio andando di volata. Perché? Perché molte diapositive, credo che molti dei presenti le conoscono già, per me è una sorta di indice. Chiaramente io penso che ci siano anche molti che non sanno che cos'è esattamente la teoria delle origini epigenetiche delle malattie e quindi cerco di fare il discorso per come posso completo. Allora, qualche giorno fa dicevo, c'è stato questo grande congresso, il terzo della serie, io avevo messo in fila questi passaggi quasi obbligati. Primo congresso mondiale, 2017, la mia relazione che vedete col numero uno era proprio le origini embriofetali delle malattie. Si può proporre che tutte le patologie croniche, infiammatorie e tumorali stiano aumentando perché c'è una alterazione del programming fetale e questo è legato al fatto che l'ambiente è cambiato troppo in fretta. La seconda, come vedete nel 2019, ho affrontato e oggi tratterò un po' più a fondo il grande tema delle origini embriofetali anche delle patologie tumorali che è un tema che a me sta appassionalmente a cuore perché è quello su cui ho lavorato di più e perché a mio parere è quello meno noto. Io penso che poi Attilio parlerà in maniera molto approfondita per esempio delle malattie metaboliche, per esempio delle malattie immunoinfiammatorie quindi io ho pensato di prolungare un po' più il discorso, di allungare il discorso più sulle patologie neoplastiche che sono più di mia pertinenza. Poi se ce la faccio, ma insomma vediamo i tempi, volevo anche provare a collegare il discorso Covid con la teoria delle origini fetali delle malattie perché come tutti sapete sia per lo stress materno fetale sia perché questo virus determina una reazione citochinica violenta quindi citochine e anticorpi materni possono disturbare il feto c'è da riflettere anche su questo quarto punto. Allora comincio rapidamente sulle diapositive questo vi dicevo 2017, primo congresso mondiale delle origini fetali delle malattie quadro generale, la grande transizione epidemiologica questo è New England Journal of Medicine, Bach, grande immunologo che nota come negli ultimi quarant'anni le malattie infiammatorie acute sono andate a diminuire sia infettive che reattive mentre sono andate ad aumentare tutte quelle croniche si chiede c'è un nesso, lui cerca di spiegarlo con l'ipotesi igienica ma nel frattento aumentano tutte le patologie croniche per esempio quelle metaboliche, guardate l'obesità, Stati Uniti 1985, 8-10% di prevalenza 2001, 20% di prevalenza come tutti sapete siamo arrivati al 34% attenzione, obesità vera cioè un'endocrinopatia sistemica che non ha molto a che vedere col sovrappeso banale qui c'è veramente una programmazione alterata in utero tanto che aumenta soprattutto come tutti sapete nei bambini, noi pediatri sappiamo che negli anni 70 praticamente questo quadro non esisteva o quasi questa era la Prade Ruilli nel Fanconi come ricordate questa figura ci diceva che il bambino che aveva questo tipo di fenotipo aveva in generale una sindrome geneticamente tutti sappiamo che oggi in Italia 11% dei bambini sono patologicamente obesi andiamo avanti, diabete secondo, stesso problema continua anticipazione dell'età di insorgenza 30 anni fa il diabete era diabete 2, era malattia dell'anziano dell'ata media, sta diventando patologia dell'adolescenza questa era una review del 2015 che abbiamo scritto con Lucia Migliore una collega genetista e come vedete l'aumento continuo noi cercavamo di documentare gli effetti in utero appunto della programmazione disturbata dai cosiddetti interferenti endocrini che in realtà sono degli pseudomorfogeni in questo periodo della vita questo è il quadro generale come capite la nostra idea da anni è che tutte le patologie croniche abbiano origine in questa fase della vita da una sprogrammazione dei tessuti e per di più come vedete in questa immagine ci sono i gameti che si stanno formando quindi il rischio è che una serie di modifiche epigenetiche possano manifestarsi addirittura nelle generazioni successive ed è la cosiddetta trasmissione transgenerazionale stesso discorso e qui veramente non mi soffermo perché poi magistralmente lo farà Attilio aumento di tutte le malattie immunomediate di primo, di secondo, di terzo tipo spesso legate anche a un'esposizione in utero questo era proprio di Attilio questa slide un po' modificata però vedete sicuramente l'esposizione in utero per esempio a fumo di sigarette altera il rapporto tra le popolazioni linfocitarie addirittura le patologie croniche ostruttive dell'anziano potrebbero avere in buona parte un'origine molto precoce in quel periodo poi le malattie diciamo classicamente reputate genetiche per esempio la celiachia ebbene la celiachia non può aumentare perché malattia immunogenetica tutti sapete che ci sono dei polimorfismi particolari sul sistema maggiore di stocompatibilità ma allora cosa aumenta? aumenta la glutensensitivity che è genetica e non è che è epigenetica e non è genetica questo è un esempio classico ci sono dei fattori epigenetici che determinano un quadro sovrapponibile di solito più tardivo e meno grave l'aumento della permeabilità l'ecosistema microbico alterato eccetera andiamo avanti e andiamo ai due grandi ambiti in cui oggi credo che sia più importante conoscere questa teoria è di fatto l'epigenetica uno è il grande ambito dei disturbi del neurosviluppo dal 2006 da questo articolo che fece grande scalpore l'Anset questi due autori un pediatra e un epidemiologo lanciarono l'allarme sull'Anset dicendo c'è un enorme continuo incremento misconosciuto dei più dei disturbi del neurosviluppo e in particolare di autismo fanno vedere grafici come questo grandi contestazioni perché il loro titolo come vedete qui è Developmental Neuro Tossicity of Industrial Chemicals quindi potete immaginare la grande eco-peb eppure la loro idea era basata proprio sul fatto che erano specificamente in aumento alcuni quadri per esempio l'autismo in particolare e la DHD quindi i quadri tutto sommato più gravi di disturbi del neurosviluppo i dati sono eclatanti vedete in questo grafico si parla di centosessantatremila bambini diagnosticati con disturbo di spettro autistico nel 2003 negli Stati Uniti dieci volte più che nel 92 andando a vedere questo grafico molto esplicito tutte queste patologie aumentano cominciano ad aumentare sia l'obesità sia le malattie metaboliche sia quelle diciamo del neurosviluppo sia i tumori infantili intorno agli anni 70-80 addirittura fine degli anni 80 e poi c'è questo aumento esponenziale a fine secolo questo in vari paesi vedete i dati dei Sidi di Atlanta nell'80 era un bambino sul 1500 con diagnosi di autismo 30 anni dopo siamo arrivati a 1 su 70 addirittura nel 2014 i due stessi autori sottolineano sull'Anset Neurology che nelle aree in cui ci sono molti pesticidi metalli pesanti per esempio traffico veicolare molto intenso c'è un raddoppio ulteriore dei casi nel 2018 siamo arrivati a 1 su 59 Pediatrics nel 2018 arriva a dire abbiamo un bambino su 40 con diagnosi di spettro autistico c'è un overlapping non è solo l'autismo dicevo prima anche le ADHD anche i disturbi ossessivo-compulsivi anche i disturbi dell'umore sono in grande aumento insomma è tutto lo spettro dei disturbi diciamo del neurosviluppo ebbene la cosa assurda io non entro nei dettagli è che continuano a parlare di genetica come se tutto ciò che è in qualche modo è familiare sia genetico adesso vi farò vedere perché tutto questo a nostro parere a mio parere ma non solo mio ovviamente è fondamentalmente sbagliato vedete ancora una volta interessantissimo questo articolo l'autismo come una variante adattativa dello sviluppo del connettoma del bambino su questo ci soffermeremo tra poco perché qui è la grande differenza il modo in cui si costruiscono le reti neuronali non ha niente a che vedere col DNA il DNA è un database dà in buona parte le potenzialità ma il modo in cui si produce letteralmente la formazione del connettoma delle reti neuronali non è certo scritto nel DNA del resto l'aumento continuo e rapidissimo di queste patologie dimostra che non può essere un errore del DNA abbiamo appena pubblicato questo articolo in cui abbiamo cercato di documentare e di analizzare a fondo questa differenza tutti i fattori epigenetici che determinano l'aumento di queste patologie e non ultimo le malattie neurodegenerative guardate l'Alzheimer l'errore è stato per molti anni dire l'Alzheimer aumenta perché aumenta l'età media è lo stesso errore che si è fatto per i tumori non è così perché la differenza è che nelle autopsie degli anni cinquanta l'Alzheimer era patologia rarissima e invece ecco qui le proiezioni sull'Alzheimer sapete che oggi in Italia più di un milione di persone soffre di questa patologia e quindi stanno dilagando tutti questi quadri ecco il secondo grande congresso sulle origini materno-fetali della malattia e qui mi dilungo un po' più sui meccanismi perché sono meno noti in generale penso che tutti sappiate che oggi in Europa una persona su due fa un cancro e che cento anni fa il cancro era una malattia letteralmente rara tranne alcune forme tumorali specifiche adesso invece il cancro aumenta tutte le tipologie di cancro ma ecco la grande sorpresa del più grande studio epidemiologico di ricerca sul cancro degli ultimi anni lo studio Axis dell'IARC l'aumento maggiore nel primo anno di vita ora questo chiaramente denota la impossibilità di continuare a ragionare secondo gli schemi della cosiddetta diciamo teoria delle mutazioni stocastiche secondo cui il cancro sarebbe un accumulo di mutazioni casuali del DNA l'aumento che era stato segnalato nel duemila e quattro viene ulteriormente riconosciuto è meglio analizzato per esempio sull'Anset Oncology nel duemila e diciotto non è tanto la leucemia linfoblastica che aumenta quanto i tumori prima rari dai neuroblastomi ai rabdomiosarcomi dai linfomi ai tumori cerebrali ora tutto questo è importantissimo dimostra appunto che questa vecchia teoria purtroppo continuano a parlare di sfortuna e di mutazioni appunto casuali ebbene tutto questo dovrebbe essere veramente via via messo da parte io cercherò di farvi vedere la grande differenza tra il considerare il cancro un incidente genetico che viene per sfortuna e invece considerarlo come stiamo cercando di dimostrare come una malattia complessa sistemica reattiva adattativa come abbiamo visto già per l'autismo è fondamentalmente diverso considerarlo così la teoria dominante è ancora questo questo è un famoso articolo di Weinberg che dice quando per sfortuna vengono colpiti alcuni geni che sono i cosiddetti oncogeni e i geni oncosoppressori e si accumulano una serie di modifiche di questi geni di mutazioni di questi geni ebbene la cellula neoplastica accumula una serie di caratteristiche come la evasione della poptosi la proliferazione senza possibilità dei segnali di stop di funzionare l'angiogenesi la tendenza a invadere gli altri tessuti eccetera ebbene è vero questo beh fin dall'inizio fu contestato molto per esempio un grande biologo molecolare come la Zeppnik disse guardate che queste caratteristiche sono tipiche anche dei tumori benigni l'unica vera caratteristica del tumore maligno è dare le metastasi il cancro uccide se dà metastasi il cancro maligno non è il cancro non è un tumore come tutti quelli come tutti i tumori benigni ha una caratteristica in più attenzione le metastasi non hanno niente a che vedere come vedremo tra poco con le mutazioni del DNA questo è un punto essenziale se noi andiamo a vedere il DNA il genoma di una patologia neoplastica queste sono le più famose più comuni ebbene noi vediamo che queste linee cellulari hanno 10 20 30 mila mutazioni sono il prodotto di una progressiva anarchia del genoma non sono la causa del genoma il genoma non ha le cosiddette 4-5 mutazioni driver non ci sono due tumori che hanno lo stesso quadro neanche genetico allora su queste base abbiamo a lungo lavorato io cito sempre e anche in quel congresso l'ho ricordato quello che è stato un po' il grande iniziatore di questo lavoro sull'epigenetica del cancro un italiano tra l'altro con cui ho avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni della sua vita Renzo Tomatis era anche il direttore della IARC ebbene Renzo già nel 79 aveva sottolineato con questo articolo importante sulle monografie del National Cancer Institute che l'aumento dei tumori soprattutto riguardava cominciava già allora a riguardare i giovani ma diceva vedrete come aumenterà il cancro nelle prossime generazioni perché perché il cancro non è un incidente genetico ora non posso entrare nei dettagli ma lo aveva capito a partire da alcune situazioni particolari e poi da grande oncologo sperimentale aveva visto che cominciava in utero qualcosa ovviamente nei topolini di laboratorio e questo era molto simile a quello che succedeva in alcuni ambiti clinici nel 2007 Renzo ci ha lasciato nel 2013 ho potuto grazie a Masera e a Terracini portare un po' il racconto di queste nostre ricerche per esempio attraverso epidemiologie e prevenzione nell'ambito anche un po' del dibattito con gli oncologi e gli epidemiologi italiani qual era il lavoro che stavamo cominciando? Beh partivamo proprio dal fatto che l'aumento del cancro è soprattutto nei tumori infantili ed è un aumento continuo al punto tale che negli Stati Uniti ma ormai anche in Europa il cancro è diventato la prima causa di morte per malattia e un bambino su 600 fa un cancro e come dicevamo come vedete da questa immagine è soprattutto nel primo anno che c'è un aumento molto superiore all'atteso allora tutto questo dimostra che non può essere un accumulo di mutazioni stocastiche infatti si è trovato che i bambini ormai uno su cento nascono già con una traslocazione specifica assolutamente simile a quelle che erano state già considerate prima ma in particolare questo è l'ultimo articolo di Renzo prima di lasciarci stavamo lavorando su una specifica traslocazione che poi è quella più frequente nei tumori del primo anno di età eccola qui è una traslocazione specifica dicevo cioè c'è un gene che è una metiltransferasi questo è fondamentale in epigenetica cioè è un gene che codifica per un enzima importante per spostare i gruppi metilici negli stoni questo praticamente questa mutazione determina una traslocazione con altri settanta geni allora tutto questo noi abbiamo cominciato a dire è impossibile che sia il frutto del caso avevamo trovato già in letteratura per esempio questo studio che dimostrava come alcune sostanze purtroppo anche di uso comune come il bygon sono associate a questo tipo di traslocazioni ma soprattutto ci eravamo resi conto che per esempio a Seveso molte persone hanno una traslocazione quattordici diciotto ed è una traslocazione specifica sapete tutti che a Seveso c'era da trent'anni la diossina ma trovavamo la stessa traslocazione tipica dell'infoma follicolare nei contadini che usano pesticidi ora questo è importantissimo perché significa non è il pesticida non è la diossina non è il bygon queste sostanze inducono le traslocazioni cioè inducono il genoma a trovare degli assetti diversi che sono qualcosa di attivo non è la singola molecola che conta allora a questo punto abbiamo cercato in letteratura abbiamo trovato per esempio che già nel 2004 questo articolo sul New England Journal of Medicine dimostrava come queste traslocazioni nel linfoma follicolare si trovassero sia nei linfomi che negli endoteli ora perché era importantissimo questo? perché si tratta di cellule che non hanno la stessa derivazione embrionaria si tratta di qualcosa che non può avvenire per caso tanto più che questa traslocazione come vedete in questa immagine ha qualcosa di molto interessante cioè è una traslocazione che sembra avere una teleonomia non si può dire una finalità in biologia però significa qualcosa cioè vedete il gene BCL2 che è un gene antiapoptotico viene espresso continuamente perché viene esposto a un enhancer delle immunoglobuline ora di questo tipo di modifiche prima epigenetiche poi genomiche noi ne abbiamo trovato tantissime io ve ne descrivo due o tre veramente le più eclatanti per esempio bambini col Burkitt soprattutto in Africa hanno traslocazioni del CIMIC esattamente con lo stesso modalità cioè esposizione agli enhancer delle immunoglobuline se voi andate a Chernobyl trovate tantissimi bambini con modifiche epigenetiche e con traslocazioni che ne sono il prodotto in particolare per quanto concerne il CIRRET con un aumento dopo Chernobyl di decine di volte allora questo ci ha portato a considerare sempre di più il cancro come una malattia epigenetica abbiamo pubblicato una serie di cose questo era un articolo che ho pubblicato da poco in fondo 2018 in cui questi analisi delle traslocazioni come eventi epigenetici e in qualche modo non casuali e a me pare molto eclatante ecco questo è un articolo in cui diciamo l'intero modello su cui avevamo lavorato con Renzo ho cercato di configurarlo adesso vi faccio vedere come allora l'idea qual è? L'idea è che le mutazioni non sono per niente eventi casuali sono il prodotto di modifiche epigenetiche che sono reattive che si formano nella prima fase della vita già in utero che sono legate al fatto che l'ambiente sta cambiando talmente in fretta e sono talmente tante le sostanze che vengono recepite dall'epigenoma cellulare come pericolose che questo cerca adattamenti e modalità difensive perfino il cancro dovrebbe essere visto così al punto tale che in vitro lo si vede molto facilmente tutta una serie di modifiche epigenetiche soprattutto la ipometilazione del DNA e adesso vedremo che cosa significa l'ipermetilazione quindi il blocco dei geni oncosoppressori non sono per niente mutazioni stocastiche non sono per niente casuali sono il prodotto di una capacità e di una necessità dei tessuti nei primi mesi anni di vita di rispondere di difendersi di adattarsi sono le cellule staminali che hanno questa capacità che la conservano per tutta la vita le cellule embrionari e le cellule diciamo staminali dei vari tessuti hanno la conservano la capacità epigenetica di reagire in qualche modo trovando adattamenti allora cosa significa tutto questo nel cancro evidentemente se è vero quello che stiamo dicendo non ha senso considerare il cancro una malattia che viene per sfortuna come ancora si pensa e per incidenti genetici ma per estensione adesso lo vedremo soprattutto nei disturbi del neurosviluppo la nostra idea è diventata immediatamente questo noi dobbiamo considerare la teoria delle origini fetali delle malattie come un paradigma fondamentale come un modello unico tutto quello che nella prima fase della vita cioè di massima plasticità può disturbare l'embrione e il feto producono una serie di tentativi di difesa da parte del software di adattamento e questo noi lo chiamiamo patologie perché sono tali ma in realtà sono tentativi di difendersi perfino le metastasi vanno viste in questo senso vi dicevo non ci sono delle mutazioni che danno metastasi che cos'è la metastasi la metastasi è il riproporsi di un programma epigenetico embrio fetale sono le cellule che come adesso vedremo per il neurosviluppo in generale migrano migrano perché riattivano un meccanismo tipico dell'embrione e del feto che è quello della migrazione delle cellule quindi un cancro riattiva un programma embrionario le mutazioni sono un epifenomeno secondario quello che realmente è fondamentale è il tentativo diciamo dell'organismo in questo caso delle cellule di trovare una risposta a quello che è un continuo bombardamento che avviene ormai nelle prime fasi della vita così anche la riattivazione della telomerasi che come tutti sapete è un enzima che prolunga la vita delle cellule è difensivo però diventa pericoloso perché queste cellule tendono a immortalizzarsi quindi soprattutto nel cancro della prima infanzia dobbiamo trovare via via e questo sarà importantissimo e vedremo anche per le altre patologie diventa fondamentale il ruolo non solo del pediatra ma nei prossimi anni anche del neonatologo e soprattutto del ginecologo dovremo sempre più lavorare insieme l'anamnesi per esempio deve essere fatta molto più attentamente perché quello che abbiamo trovato è che la correlazione nei casi di tumore non è tanto con l'esposizione infantile del bambino a sostanze per esempio tossico ma della madre negli anni precedenti alla gravidanza quindi capite come è importante tutto questo in prospettiva quindi il cancro non è un incidente genetico è una vera e propria malattia sistemica lo avevano capito che origina nelle prime fasi della vita cioè nelle fasi di massima plasticità epigenetica lo avevano capito questo è un articolo che abbiamo scritto nel duemila e quindici lo avevano capito i patologi tedeschi questo è Fiershoff che cosa aveva visto Fiershoff e i suoi aveva visto che nel cancro ci sono quelle che lui chiamavano cellule embrionali in realtà sono cellule staminali riattivate la sua teoria era incredibilmente simile a quella che adesso noi stiamo mettendo in campo cioè l'idea è che i tessuti durante la vita embrionale e fetale se vengono stimolati in maniera sbagliata se ricevono dei segnali sbagliati proliferano in maniera purtroppo pericolosissima il teratocarcinoma era l'esempio plastico che ci sono i tre foglietti embrionari tutti e tre vengono espressi e in qualche modo c'è questo tumore mostruoso ma perché questo è molto interessante perché da trent'anni a questa parte si sa che se si espone un teratocarcinoma a cellule embrionari alla blastocisti per intenderci queste maturano vedete lì è un blasto chiaramente è un mieloblasto che diventa di nuovo neutrofilo allora questo sta diventando ed è su questo che stiamo lavorando un tentativo diverso di affrontare il cancro non solo ancora una volta bombardandolo ma cercando di riattivare la differenziazione cellulare allora capite come diventerà diventerebbe se questo noi vi faccio vedere come lo facciamo questo è il mio collega Pier Mario Biava abbiamo stiamo seguendo molti casi di tumore soprattutto epatocarcinomi ma adesso anche dei tumori infantili non operabili soprattutto tumori del cervello con queste proteine di zebrafish sono delle proteine embrionarie che spingono le cellule a differenziarsi si ora tutto questo è terapia epigenetica senso stritto quindi cambia completamente il paradigma del resto voi sapete che in alcuni casi come nella leucemia promielocitica qualcosa di simile già si fa perché l'acido retinoico in realtà agisce come un fattore epigenetico non tocca la mutazione in questo caso la traslocazione PML R EIA che rimane tale e quale ma viene a essere letteralmente smontato l'intero pacchetto dei fattori di trascrizione abbiamo affrontato tutto questo tema in modo ovviamente semplificato sulle grandi linee però in modo secondo me molto valido nella bellissima consensus del 2016 fatta dalla Sips io vi ricordo come abbiamo in qualche modo inquadrato tutto questo abbiamo ricordato come dal 1997 c'è il tentativo di costruire un nuovo paradigma che passi dalla genetica all'epigenetica tutto inizia con questi articoli almeno nella mia vita nella mia memoria Adam Wilkins grande biologo molecolare che si chiede ma perché noi non riusciamo ad andare oltre ai limiti del modellino lineare di Watson e Crick Richard Stroman sottolinea qual è l'errore su Nature Biotechnology siamo nel 97 e dice sì è proprio così siamo talmente ipnotizzati da questo dogma dall'idea che l'informazione va dal DNA all'RNA alle proteine che non capiamo che il discorso è esattamente profondamente diverso noi abbiamo in biologia dice Stroman e anche in medicina di conseguenza dei veri e propri dogma pensiamo in termini di dogma di Crick che l'informazione va dal DNA per cui è del progetto genoma se noi conosciamo la sequenza individuiamo gli errori che sono la base delle malattie non funziona così già dice vent'anni venticinque anni fa Stroman non funziona neanche come pensa Darwin e cioè che le mutazioni sono puramente stocastiche e poi selezionate dalla selezione naturale non funziona neanche il dogma di Weissman per cui i gameti sarebbero misteriosamente preservati e con l'epigenetica letteralmente smonta questi dogmi per cui è una visione totalmente diversa io ogni volta faccio vedere questa diapositiva per capire come non si capisce la teoria delle origini fetali delle malattie se non si fa una vera e propria rivoluzione e la rivoluzione consiste in questo bisogna passare punto uno dalla genetica lineare dall'idea che nel DNA c'è il progetto che basta conoscere il DNA per sapere come si costruisce il fenotipo per cui gli errori del fenotipo sarebbero errori di DNA a una visione sistemica per cui invece l'informazione va dall'ambiente verso il genoma ne cambia lo induce a modificare il suo software quando punto tre e punto quattro nel periodo di massima plasticità epigenetica cioè il feto l'embrione il feto e comunque il bimbo nella prima parte della vita per cui si parla di primi mille giorni è in uno stato di massima plasticità riesce a rispondere modificando l'assetto epigenetico delle sue cellule chiaramente se tutto questo viene continuamente disturbato ecco che si hanno le cosiddette diciamo il fetal programming il termine è un termine tecnico in realtà modifiche epigenetiche reattive adattative difensive che possono produrre di fatto le patologie quindi la grande trasformazione epidemiologica che stiamo vivendo non è il prodotto di errori del DNA non c'è modifica del nostro fenotipo dall'obesità alle malattie allergiche dalle patologie infiammatorie a cronico degenerative a quelle tumorali e disturbi del nero sviluppo alle malattie neurodegenerative che non siano reattive difensive adattative epigenetiche allora su questa base capite che cambia veramente tutto noi non possiamo più andare a cercare nel DNA l'errore è sbagliato considerare il cromosoma come una sequenza lineare di geni è sbagliato anche soltanto considerarlo come essenzialmente questo se questo è il cromosoma 1 l'errore fondamentale di questa figura è far credere che la gran parte del cromosoma 1 si è formato da geni sono 1700 geni ma sono il 2% della sequenza ora capite qual è il problema il 98% è molto più importante di come si pensava progetto genoma fino al 2007-2008 non ha fatto altro che cercare geni che potessero spiegare le malattie croniche ne ha trovato migliaia come a dire che non ha potuto spiegare la genesi delle malattie croniche la risposta è questa la dà ancora una volta Stroman già nel 2001 dice guardate i geni ubbidiscono l'informazione viene dall'esterno il genoma non è una sequenza lineare il genoma è un ecosistema i geni rispondono lavorano tutti insieme l'epigenetica e lo studio di questo sistema è fondamentale capire che noi siamo formati da trilioni di cellule che fin dall'inizio della vita si programmano un proprio software sulla base delle informazioni che gli diamo tutto ciò che noi mangiamo che noi beviamo la vita che facciamo le stesse emozioni inducono una serie di modifiche che sono reattivo adattative il genoma è in grado di fare quello che un grande genetista Shapiro dice ingegneria genetica naturale allora voi capite cambia talmente tanto il tutto che adesso noi tutti dobbiamo fare un passo indietro e dire ma allora qual è il grande determinante della salute non è più il DNA il DNA è in qualche modo un database ma il grande determinante di salute non solo del bambino ma anche dell'adulto però con genesi molto precoce degli adattamenti epigenetici è l'ambiente e l'ambiente cosa significa? Significa che quando le informazioni che vengono dall'esterno giungono sul DNA il DNA si apre si chiude vedete in questa figura abbastanza plateale la parte della diciamo proprio il filamento del DNA fotografato vedete una piccola parte ogni millisecondo si apre si chiude si esprime sulla base di che cosa? Delle informazioni che gli arrivano in realtà il DNA è soltanto un filamento questo database che è iperavvolto ora vedremo attorno agli stoni attorno a questo filamento ruotano centinaia di enzimi le ston metiltrasferasi le ston acetil le ston deacetilasi le ston acetilasi eccetera tutti questi enzimi fanno altro che porre una serie di marcature specifiche sugli stoni sul DNA e poi modificare tutto questo assetto ora molto semplicisticamente quando io semplifico qui ovviamente inevitabilmente quando arrivano le informazioni che per milioni di anni hanno correttamente detto al codice istonico quindi di aprirsi in certi punti tutto funziona bene ma se arrivano delle informazioni sbagliate se anziché respirare ossigeno anidride carboni azoto il bambino è addirittura già in utero respira anche benzene benzantracene metalli pesanti e particolato oltre fine ovviamente il codice istonico viene disorientato fin dall'inizio le metilazioni del DNA non funzionano come dovrebbero i tre grandi meccanismi dell'epigenetica che sono questi cioè le modifiche degli istoni la metilazione del DNA e le reti di microRNA di cosiddetti RNA non codificanti vengono disorientati allora tutto questo queste sono le enormi potenzialità per capire cioè praticamente consideriamo che già solo le metilazioni di un solo amminoacido come la lisina determina la possibilità di 44 milioni di modifiche reattive ecco per capire stiamo parlando di un codice che è praticamente infinito allora tutte queste cellule che ricevono informazioni non producono in particolare proteine solo l'uno virgola cinque per cento produce proteine tutto il resto quello che una volta si chiamava junk in realtà fa un lavoro essenzialmente diciamo di riorientamento epigenetico del fenotipo allora chiaramente cambia tutto la prima fase della vita quella di massima plasticità della dell'epigenoma quindi del software la dobbiamo immaginare come in questo schema dallo zigote nascono milioni di cellule tutte con lo stesso dna tutte con un software diverso le variazioni del fenotipo sono variazioni del software e l'epigenoma quello che conta le cellule sono fondamentalmente tutte con un dna analogo di base ma vedete l'enorme differenza morfo funzionale di un linfocito e di neurone cos'è cambiato? è cambiato che il neuroblasto e il linfoblasto che erano le cellule multipotenti hanno avuto un destino totalmente diverso e si sono trasformate in queste due cellule totalmente diverse io qui uso da qualche tempo qualche slide che ho rubato letteralmente a Gianfranco Tajana che fa delle slide meravigliose questa è la neurogenesi secondo Tajana cioè le cellule staminali del nostro in questo caso sistema nervoso centrale quindi i neuroblasti ricevono una serie di informazioni e ogni cellula avrà un destino diverso è tutta epigenetica tutta la costruzione delle reti neuronali quindi la differenziazione delle cellule la proliferazione la migrazione la costruzione delle sinaptogenesi non è scritta nel DNA non è epigenetica dipende dalle informazioni che arrivano a questo embrione a questo effetto a questo bambino piccolissimo i neuroni questo è sempre di Gianfranco i neuroni vanno visti così vedete come un grande neuroscienziato una trentina di anni fa disse il neurone deve essere visto come una sorta di ragno immaginate all'inizio della vita la migrazione di questi miliardi di ragni che fra di loro comunicano si collegano tutto questo su base epigenetica allora che senso ha continuare a cercare gli errori del DNA per capire perché si può avere un disturbo come l'autismo o come la schizofrenia o come per dire la depressione tutto è inizia con una serie di problemi nella programmazione nella costruzione delle reti neuronali che si esprimono diversamente nelle varietà della vita chiaramente non posso entrare nei dettagli ma anche il cosiddetto pruning cioè la ripuditura delle sinapsi che come sapete ha il suo epicentro durante l'adolescenza è tutta epigenetica non è scritta nel DNA dipende essenzialmente da alcuni ormoni da alcune citochine quindi continuo a sottolinearlo questo e l'altra bellissima immagine che ho rubato a Gianfranco è questo cosa sta succedendo sta succedendo che quando noi usciamo di casa se la mattina ci trovassimo in macchina con davanti delle strade così e della segnaletica di questo tipo scendiamo dalla macchina e ci fermiamo ebbene i neuroni non possono i neuroni trovano sul proprio cammino migliaia di segnali sbagliati una marea di morfogeni di pseudomorfogeni di interferenti endocrini di metalli pesanti eccetera e devono costruirsi delle traiettorie diverse lo studio dell'esposoma quindi praticamente di tutte le interferenze che dall'embrione in poi possono disturbare la genesi dell'epigenoma nei miliardi nei trilioni di cellule determina la nostra possibilità di capire cosa sta succedendo ma bisogna fare in fretta bisogna cominciare a partire veramente dai primi mesi di vita perché perché la madre non volendo è per esempio la placenta è piena come si vede in questa figura di decine ormai centinaia di sostanze epigenotossiche pesticidi che sono nelle catene alimentari plastificanti come gli xtalati diossine che sono nell'aria delle grandi città eccetera metalli pesanti particolato ultrafine per esempio noi questo lo sappiamo io lavoro come consulente di alcuni istituti in particolare questo SRI European Cancer and Environment Research Institute che ha sede a Bruxelles siamo stati in alcuni punti del mondo particolari questo è emblematico è la Martinica piccola isola dell'Atlantico ebbene in Martinica c'è il record mondiale di carcinoma della prostata ci hanno invitato perché c'è anche un aumento continuo di autismo allora abbiamo cominciato a chiederci ma cosa sta disturbando la vita embrio fetale ebbene l'abbiamo trovato facilmente in Martinica le compagnie bananiere francesi hanno usato per trent'anni una molecola che si chiama clor de con che è un pesticida potente molto simile alla diossina di Sèveso quindi a quel punto siamo riusciti anche comunicandolo ovviamente alla comunità europea sapete la Martinica è Francia ad oltremare a ottenerne la sospensione ma come questo ci sono migliaia di casi nel mondo abbiamo visto tantissime placente in crete a crete per crete in Martinica abbiamo visto tantissimi casi di prematurità devo dire che anche i francesi gli epidemiologi francesi hanno fatto un bellissimo lavoro con noi e hanno detto noi vediamo un grande aumento in effetti di prematurità non è da sottovalutare non parliamo di prematuri di tre giorni parliamo di bambini che nascono uno o due mesi prima e chiaramente capite che tutto questo va riferito a un problema planetario ormai dieci per cento dei bambini che nascono nascono prematuri è come se un disturbo di fondo puramente diciamo di programmazione epigenetica facesse sì che o il feto non riesce a stare più diciamo nell'utero o l'utero non riesce più a mantenere ma come avete visto è il feto tendenzialmente perché tutti sapete che la placenta produce in buona parte è un prodotto in buona parte dell'embrione quindi il fatto che diventi aggressiva nei confronti della madre è molto importante noi stiamo lavorando questo è un progetto CCM che abbiamo anche qui in Italia stiamo raccogliendo le placente con l'università di Cagliari di Pisa di Milano e con l'ospedale di Taranto la neonatologia adesso la ginecologia di Taranto perché perché come capite lì è importantissimo facciamo immunohistochimica epigenetica metabolomica spettrometria di massa e anche ovviamente cerchiamo di capire che cosa c'è di diverso in quel periodo della vita che può giustificare l'evoluzione verso una serie di disturbi ecco queste sono le modifiche epigenetiche più frequenti per esempio del fumo di sigarette ma è molto simile il particolato ultrafine vedete tutta una serie di modifiche epigenetiche che si riflettono sulla funzione placentare sul neurosviluppo sullo sviluppo del sistema immunocompetente ecco questa è la parte molecolare che si può trovare alterata in placenta e potrà essere speriamo sempre di più anche per il pediatra importante perché se noi riusciremo e speriamo di poter fare il follow up di questi bambini perché questo progetto era nato anche perché la pediatria di famiglia avrebbe potuto e dovuto lavorare con noi poi per una serie di motivi che non ho mai capito bene questo follow up per ora non è garantito dalla pediatria di famiglia ma noi speriamo sempre di più che prima o poi lo si possa fare perché capite che sarà importantissimo poi verificare nei bambini in cui troviamo questo tipo di alterazioni epigenetiche cosa si può fare tra i fattori epigenetici fondamentali e qui entriamo nell'ultimo grande argomento di oggi ci sono sicuramente i fattori immunoinfiammatori pochi minuti Ernesto pochi minuti per piacere ma io guarda dimmi tu quanti minuti ho pochi minuti perché siamo passati quasi un'ora vai no io ho fatto 44 minuti c'ho quel cronometro faccio 6 minuti e mi fermo va bene va bene dicevo i fattori infiammatori quindi se la madre ha un'infiammazione persistente o cronica locale o sistemica ebbene queste citochine possono disturbare chiaramente la formazione dei vari tessuti fetali non ho il tempo quindi di entrare nei dettagli non ha importanza tanto il grosso diciamo l'abbiamo visto ma perfino una malattia come l'Alzheimer che è una malattia della terza età sta aumentando notevolmente per una serie di motivi questi sono dei colleghi messicani che se ne sono resi conto perché perché il nervo olfattivo è un veicolo di tutta il particolato ultrafine e i metalli pesanti entrano nel sistema nervoso determinano la produzione diciamo una serie di di disreattività per cui le proteine alterano il proprio folding precipitano ed ecco la beta amiloide ora tutto questo avviene nei primi anni di vita sempre di più noi in questi studi si è visto dalle autopsie dei ragazzi giovani delle città molto inquinate tra cui città del Messico che già nei primi anni tutto questo avviene allora dobbiamo veramente cambiare il nostro modo di considerare le malattie quando Fanconi diceva non ci sono malattie nuove in questo caso il grande Guido Fanconi aveva torto aveva ragione Grmec grande storico della medicina che diceva le malattie cambiano continuamente cambiano sulla base di tutta una serie di reattività e disreatività che si creano sulla base dell'ambiente questa che era un piccolo editoriale che avevo scritto sei o sette anni fa per il giornale di Vassilio Sfanos un po' dice quello che appunto vi ho detto fino adesso cioè che la gran parte delle malattie che noi stiamo cercando di intercettare cioè le malattie croniche endocrinometaboliche immunoinfiammatorie disturbi del neurosviluppo vanno visti come l'alterazione non del genoma che è il prodotto di miliardi di anni di filogenesi e che è quasi uguale in tutti noi ma del software epigenetico e c'è la possibilità di valutarlo tutto questo perché come vi ho fatto vedere l'epigenetica la metabolomica ci possono aiutare il DNA cambia poco qui si vede benissimo questa figura che faccio vedere sempre perché è anche divertente cambia poco nei milioni di anni quindi questi cambiamenti del fenotipo sono veramente epigenetica e non genetica questa è letteratura degli ultimi anni vedete come la letteratura basta mettere epigenetics su PubMed vedete questo aumento vedete epigenetics and cancer and autismo vedete l'aumento rapidissimo della letteratura sul microbioma che come tutti sapete è il modulatore epigenetico più potente nei primi due tre anni di vita e vedete anche l'aumento della letteratura sugli interferenti endocrini allora per finire veramente gli ultimi quattro cinque minuti li dedico a questa semplicemente non vuole essere un allarme ma vuole essere così una suggestione su cui io penso eh che dovremo lavorare molto questo è l'altro grande manuale che la Sips ha da poco pubblicato quello sulla covid il mio capitoletto introduttivo era proprio su questo noi come Sips abbiamo fin da febbraio dell'anno scorso chiesto che perché la pandemia venisse fermata dicevamo abbiamo chiesto mille volte che fossero fatte le squadre di tracciamento le aree di quarantena non è stato mai fatto a mio parere la pandemia si deve fermare così tutti sappiamo che per grazia di Dio i bambini hanno quadri in generale molto meno gravi che l'adulto ne abbiamo parlato anche Attilio a lungo ha studiato tutto questo è già pubblicato riflessioni fondamentali sul fatto che i bambini hanno alcune caratteristiche per esempio sicuramente esprimono meno i recettori e Stuart i recettori che aiutano il virus a penetrare nelle cellule hanno anche meno normalmente almeno producono meno citochine quindi fanno forme meno gravi ecco però due cose molto rapidamente in questi ultimi tre minuti una cosa sottovalutata questo articolo fondamentale sull'Anset pubblicato da un articolo di Horton del Directing Shift di Lancet Horton dice non è solo una pandemia è una sindemia cosa vuol dire che a morire sono lui dice solo le persone che hanno determinate patologie è vero vero fino a un certo punto non è vero che muoiono solo gli anziani muoiono essenzialmente le persone che hanno una disfunzione endoteliale ora tutto questo va spiegato va spiegato a fondo perché perché gli endoteli sono tendenzialmente infiammati in queste persone bisogna andare a trovare quali sono i fattori per cui quando arriva questo virus che si aggancia come tutti sapete ai recettori S2 che si trovano oltre che sul polmono in vari organi nelle arteriole di tutto il sistema e come mai anche in alcuni bambini si possono avere come tutti sapete delle reazioni endoteliali gravi per cui inizialmente si disse anche c'è un collegamento con la Kawasaki ebbene questo meccanismo patogenetico secondo me è fondamentale voi sapete che la Kawasaki è una malattia recente non esiste non esisteva la Kawasaki fino a 50 anni fa ci sono studi come questo che hanno dimostrato che nelle cartelle cliniche di tutto il mondo non esistevano casi di Kawasaki ebbene cosa è successo negli ultimi decenni già nel 2005 come vedete si era supposto un coronavirus si doveva pensare che c'erano dei fattori di rischio per esempio già si parlava del particolato ebbene è probabile e questo a mio parere in questo caso questa malattia che adesso ci troviamo ad affrontare ci può aiutare a risolvere questo grande enigma perché perché quello che si è visto è che nelle zone più diciamo inquinate d'Europa la per esempio la pianura padana chiaramente come vedete da queste immagini è in assoluto la zona con più alto livello di particolato ultrafine ha avuto un tasso di letalità da covid altissimo e questo vale per tante aree del nord del mondo ora questo perché noi sappiamo da almeno vent'anni che il particolato ultrafine è il più grande killer nei primi mesi di vita già penetra attraverso la placenta determina una serie di fattori di infiammazione persistente gli endoteli infiammati di gran parte delle persone che abitano nel nord del mondo determina una sorta di infiammazione di basso grado cosiddetto sistemica ebbene il nervo olfattivo è un veicolo sia del virus sia del particolato ultrafine è probabile che questi due agenti facciano da trigger che la cosiddetta long covid sia legata a questa sorta di alleanza tra i due agenti ebbene io penso che nei prossimi mesi o anni noi dovremmo tener conto e dovremmo anche tener conto e vale veramente per tutti noi pediatri del fatto che anche quando il virus non c'è sia da un lato le citochine e gli anticorpi a lungo possono permanere sia lo stress di una placenta in qualche modo preeclantica o quantomeno disturbata perché questo tipo di virus come sapete determina tromboembolie lo sappiamo ormai molto bene sia lo stesso stress prolungato legato non solo alla covid ma al periodo drammatico che stanno vivendo molte mamme io penso che tutti noi nei prossimi mesi o anni dovremo fare un follow up attento dei bambini che sono nati in questo periodo perché l'asse ipotalamo ipotisi surrenalico di questi bambini è particolarmente sotto stress in questi mesi ecco io mi fermo credo che questo però significa essenzialmente l'epigenetica la cosiddetta developmental origin of health and diseases è diventato ormai un paradigma fondamentale necessario la nostra professione deve cambiare come deve essere sempre più collegato il lavoro tra ginecologi neonatologi e pediatri e penso che proprio la pandemia potrebbe dovrebbe essere un momento per rendere ancora più importante questa sorta di alleanza per la salute grazie grazie Ernesto sono argomenti questi affascinanti veramente ti chiedo scusa di non averti messo fretta hai fatto una bella corsa benissimo però voglio dire ecco insomma ci vorrebbero tante ore veramente di per chiarire e per portare a conoscenza io credo che adesso con il professore Attilio Boner ci dovrà spiegare il ruolo del pediatra il ruolo del pediatra in questa in questa in questa prevenzione primaria in questa patologia non trasmissibili come dicevamo prima come metterne e dare questa responsabilità e queste armi nelle mani del pediatra per avere un adulto un nonno sempre più sano le domande le faremo tutte alla fine potete fare sulla chat scrivere le domande io le leggerò le porrò e se avete risposti a tutti in diretta tranquilli stiamo qui fino alla fine perché il professore Attilio Boner e il professore Ernesto Burgio ci daranno tutte le risposte ai vostri quesiti di curiosità su un qualcosa veramente di importante il concetto il messaggio chiave forte di Ernesto Burgio l'abbiamo percepito che oggi l'epigenetica e significa l'ambiente gli scorretti stili di vita nutrizionali sono molto molto più importanti più pesanti della stessa genetica ma forse questo non è un male perché significa che noi possiamo prevenire possiamo correggere caro Presidente Attilio Boner cosa possiamo fare prego grazie nessuna prossima riunione forse Tomaso forse devi autorizzarmi a condividere non riesco a condividere lo schermo lo vedete adesso si adesso vediamo esatto metti in presentazione e ci sei ci sono ecco allora grazie grazie a Pino per l'invito grazie Ernesto per avermi facilitato il compito allora che che cosa diciamo diciamo sostanzialmente quello che è stato detto qualche anno fa in questa consensus conference sull'origine fetale della salute della malattia che ha organizzato il nostro presidente con l'aiuto del dottore Saverga e qui vedete la fotografia dei partecipanti allora se torniamo indietro di poco meno di duemila anni lo stare bene era un concetto era un colpo di fortuna sostanzialmente vedete che cosa scrive l'imperatore romano Marco Aurelio un uomo prega che cosa devo fare per non perdere mio figlio in realtà dovrebbe pregare e dire come posso fare per non aver paura di perderlo perdere un bambino era un qualcosa di normale c'è anche da dire che Marco Aurelio veniva dalla guerra fatta contro i parti e Marco Aurelio che passa per uno dei più saggi imperatori romani in realtà è quello che ha interrotto la Pax romana e tornando dalla guerra a quei parti si è portato dietro una delle prime epidemie di vaiolo sostanzialmente e in pratica per effetto dell'epidemia sono morti 5 milioni di persone nell'impero romano allora qual è la definizione di benessere nel 1948 l'organizzazione mondiale della sanità ha detto che la salute è uno stato di completo benessere fisico mentale e sociale cioè non era lo star bene non vuol dire non stare male cioè la salute veniva definita per quello che è ma non per quello che non è qual era il problema di questa definizione il completo il completo benessere è sostanzialmente non raggiungibile allora sostanzialmente la definizione di salute si è modificata nell'86 e sostanzialmente si dice che la salute è quell'insieme di risorse biofisiche psichiche e sociali che ogni individuo cerca di realizzare per raggiungere i suoi fabbisogni cioè la salute veniva definita come un mezzo per raggiungere un fine e anche questo non è una definizione che viene accettata nel 2004 invece National Institute of Medicine degli Stati Uniti insieme con l'Accademia Pediatrica dell'Accademia Americana di Pediatria ha definito che la salute è la misura nel quale un bambino è in grado di realizzare tutti i suoi potenziali di soddisfare i suoi bisogni di sviluppare le capacità che gli consentono di interagire con successo con l'ambiente biologico fisico e sociale e vedete comincia a comparire il termine ambiente termine che Ernesto prima vi ha fatto capire quanto sia importante la salute sostanzialmente dipende da una interrelazione dinamica tra noi e il nostro ambiente e questa interazione dura per tutta la vita una persona ha le sue risorse biologiche ha le sue risorse funzionali ha le sue risorse comportamentali ha le sue risorse esperenziali che dipendono sostanzialmente dall'interazione con l'ambiente familiare con l'ambiente sociale e con l'ambiente fisico e il fatto che questi triangoli si ripetano è perché queste interazioni proseguono e sono importanti per tutta la vita che l'ambiente sia importante lo dimostra ad esempio l'osservazione fatta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità che il 24% di tutte le malattie dipendono essenzialmente da fattori ambientali il 36% delle morti in età pediatrica sono da attribuire a fattori ambientali allora le malattie infettive si sono chiaramente ridotte la mortalità in età pediatrica si è ridotta ma sono aumentati gli anni che noi trascorriamo con disabilità tra il 90 e il 2010 ad esempio la patologia cardiovascolare è aumentata del 17% è aumentata la patologia respiratoria cronica le malattie neurologiche il diabete e i disturbi del comportamento questo dipendono sicuramente dallo stile di vita ma hanno sicuramente un legame con l'ambiente Peter Sly che è un pediatra che si occupa anche di epidemiologia ha messo chiaramente in evidenza come vi siano dei fattori ambientali che sono operative nei primi mille giorni di vita ma anche in epoche eccessive per quanto riguarda lo sviluppo d'asma per quanto riguarda lo sviluppo della bronchite cronica dell'obesità del diabete di tipo secondo della sindrome metabolica dell'ipertensione delle patologie cardiovascolari ma anche delle patologie neurodegenerative e dei tumori come vi ha fatto vedere poco prima Ernesto ma i fattori ambientali sono operativi anche per quanto riguarda lo sviluppo del cosciente intelligenza e come è già stato ampiamente dimostrato prima con disturbi del comportamento o con disturbi dello spettro autistico sono cose nuove queste assolutamente no vedete nel 33 quasi un centinaio di anni fa studi condotti in Svezia e in Inghilterra avevano messo in evidenza che le morti in questi due paesi si comportano come se fossero un qualcosa che era già preordinato e che sostanzialmente era qualcosa che veniva preordinato nei primi anni di vita e gli autori dicono che bisogna migliorare la salute della donna in gravidanza per ridurre le morti in 1933 nel 1977 in Norvegia che cosa vedono vedono che la mortalità infantile è direttamente associata con la patologia cardiovascolare e dicono che la mortalità infantile è collegata alla povertà e nascere povero aumenta il rischio di avere una patologia cardiovascolare in epoche successive ma bisogna arrivare al 1980 quando David Barker mette appunto l'osservazione epidemiologica più importante degli ultimi anni che sostanzialmente la salute e la malattia hanno le sue radici profonde durante l'epoca fetale che cosa osserva osserva che i bambini che nascono piccoli di basso peso hanno un basso peso alla nascita sono da adulti dei soggetti a rischio di patologia cardiovascolare di stroke di sindrome metabolica e di osteoporosi sostanzialmente non è solo chi nasce piccolo per l'età gesta zonale di basso peso ma anche nascere prematuro è un fattore di rischio quando all'inizio della mia carriera ho lavorato in neonatologia quando nasceva un bambino alla trentaseesima trentasettesima settimana non eravamo più di tanto preoccupati in realtà studi hanno chiaramente documentato ad esempio che nascere prima della trentasettesima settimana di vita adesso si sopravvive con estrema facilità si riusciva a sopravvivere anche allora ma chi nasce prima della trentasettesima settimana di vita va incontro a un invecchiamento precoce dopo come capita sempre c'è qualcuno che ci ascolta che è nato prematuro e si preoccupa di invecchiare precocemente questo invecchiamento precoce è dovuto allo stress ossidativo e lo stress ossidativo si può combattere allora sostanzialmente nascere prematuro aumenta il rischio di diabete tipo secondo di patologia cardiovascolare di disturbi cerebrovascolari di ipertensione di patologia renale di asma e di anomalie polmonare la bronchite cronica o sottiva ma anche di disturbi del comportamento e neurocognitivi allora anche un modesto incremento di queste patologie ad esempio dal 10 al 20% se teniamo conto del numero di prematuri che abbiamo a livello mondiale diventano un peso che è estremamente importante allora qual è la prima cosa pratica se programmiamo un parto va bene dobbiamo programmarlo a meno che non vi siano delle situazioni di estrema urgenza dobbiamo portare il bambino almeno fino alla 39esima settimana alla 38esima non va bene deve arrivare alla 39esima settimana vedete infatti che chi nasce tra la 37esima e la 38esima settimana ha dei rischi che sono aumentati per cui il termine prematuro o nato o nato a termine non deve essere una dicotomia deve essere un qualcosa di continuo e dobbiamo fare tutto il possibile perché un bambino arrivi almeno alla 39esima settimana ad esempio chi nasce tra la 37esima e la 38esima settimana ha il 26% in rischio in più di avere delle disabilità nell'adulto la femmina che nasce poco prima del termine ha un rischio aumentato di avere un diabete durante la gravidanza o di avere pre-crampsia allora che cosa possiamo fare qua io ho scritto che cosa possiamo fare se ci rendiamo conto che stiamo diventando nonni cosa vuol dire che nostra figlia aspetta un bambino o che nostro figlio ha con sua moglie un bambino avrei potuto scrivere che cosa dovremmo fare se fossimo ginecologhi o ostetrici ma sostanzialmente ho preferito mettere nonno perché nella mia esperienza non ho visto un grosso interesse da parte del ginecologo e dell'ostretico sulla salute sulle origini precoci della salute allora sostanzialmente devo fare in modo che la mamma che aspetta il mio nipotino non fumi durante la gravidanza perché se fuma durante la gravidanza aumenta il rischio che partorisca un bambino prematuro o piccolo per l'età gestazionale un bambino che da adulto o anche da bambino avrà respiro sibidante asma ed adulto bronchite cronica o struttiva aumenta anche il rischio che partorisca un bambino che diventerà sovrappeso ma questo è un dato impressionante questa è una biopsia fatta sulle arterie ombelicali e sostanzialmente vedete che se la mamma ha fumato in gravidanza ho già le alterazioni tipiche della terosclerosi nell'endotelio dell'arteria ombelicale se la mamma fuma in gravidanza questo bambino avrà un maggior rischio di essere uno che si arrabbia facilmente che può avere difficoltà di lettura che può avere la DHD che ha una riduzione del neurosviluppo e ha una riduzione del sviluppo dei lobi frontali i lobi frontali sono estremamente importanti perché sono l'interruttore della migdala la migdala è quel centro del nostro sistema nervoso che ci mette in allarme allora se uno ha una migdala ipertrofica si arrabbia con estrema facilità se la sua mamma ha fumato i lobi frontali sono meno in grado di spegnere questo segnale d'allarme la mamma ha fumato durante la gravidanza è possibile più probabile che fabbrichi un bambino che poi avrà un comportamento antisociale o che si arrabbia facilmente ringrazio sempre mia mamma perché non ha mai fumato in gravidanza perché se no io sarei stato molto peggio di quanto non sia attualmente o sia stato anche in passato devo stare attento che la donna in gravidanza non aumenti in modo eccessivo di peso l'incremento ponderare ottimale va tra gli 11 e i 15 kg le donne che superano i 16 kg di aumento ponderare durante la gravidanza partoriscono dei bambini che sono a rischio di patologia cardiovascolare di stroke di iperinsulinemia iperglicemia aumento dei trigliceridi del colesterolo obesità ipertensione difetto di attenzione iperattività problemi con la regolazione emotiva e anche problemi dello spettro autistico in gravidanza cosa si consiglia? si consiglia di consumare il pesce perché? perché è una fonte importante di omega 3 però il pesce è anche una fonte importante di inquinanti atmosferici e di interferenti endofini e che cosa si raccomanda? si raccomanda le donne di mangiare il pesce azzurro il pesce piccolo pesce povero di mercurio e di non assumerlo più di tre volte alla settimana questo viene dal ministero della salute australiano che segue attentamente la concentrazione del mercurio nei pesci ad esempio il pesce piccolo è quello che si può mangiare le alici pesce piccolo quando il pesce è grosso e viene in fondo la catena alimentare il contenuto in mercurio è molto elevato un'altra cosa pratica che si può fare è che il mercurio può venire antagonizzato ad esempio con il selenio che è un oligoelemento molto importante uno studio fatto in Europa negli Stati Uniti che ha valutato su 26.000 donne in gravidanza il consumo di pesce si vede che essenzialmente consumano pesce a quattro volte alla settimana soprattutto in Portogallo e in Spagna allora che cosa succede se la donna consuma tanto pesce aumenta il rischio se consuma pesce più di tre volte alla settimana aumenta il rischio che partorisca un bambino che diventa poi obeso eccolo qua se consumano pesce più di tre volte alla settimana aumenta il rischio di una crescita ponderale esagerata del 22% e aumenta del 14% del 22% le probabilità di partorire un bambino che diventerà obeso a 4 o 6 anni qual è il meccanismo sostanzialmente le sostanze che sono presenti nel pesce e che sono interferenti in toxini e molto probabilmente la sostanza che interferisce è la tributilina che viene utilizzata viene applicata sulle barche per impedire che si attachino le alghe alla barca la tributilina si comporta come un interferente endocrino altre cose semplici che si devono fare in gravidanza ad esempio è dire alla donna che aspetta un bambino di non bere l'acqua dalle bottiglie di plastica perché possono contenere il bisfenolo e il bisfenolo è un interferente endocrino a un'azione simile agli estrogeni se scaldiamo gli alimenti in microonde dobbiamo scaldarli in contenitori di vetro e di ceramica assolutamente evitare di scaldare i microonde in recipienti di plastica perché in questo caso facilitiamo il trasferimento delle sostanze che sono contenute nella plastica all'alimento evitare di mangiare alimenti in scatolati perché la parte che viene la parte interna di questi contenitori viene rivestita con sostanze che riducono l'adesione dell'alimento al contenitore ma queste sostanze possono interferire dal punto di vista endocrino quali sono queste sostanze gli iftalati i fenoli i ritardanti di fiamma i famosi PFAS che sono famosissimi nella zona del Veneto i pesticidi i fungicidi e gli erbicidi come si comportano questi interferenti endocrini possono funzionare come agonista o come antagonista e quindi possono attivare il recettore dei diversi ormoni oppure spegnerlo oppure possono andare a agire anche a valle del recettore e a stimolare la cellula indipendentemente dal legame con lo recettore stessa andiamo a contatto tutti i giorni con queste sostanze quando utilizziamo le pentole antiaderenti andiamo a contatto con queste sostanze quando compriamo la pizza e ce la portiamo a casa per mangiare la scatoletta di plastica contiene delle sostanze che hanno un'interferenza endocrina sostanzialmente qual è il problema principale è quello che queste sostanze interferiscono per quanto riguarda il metabolismo e per quanto riguardano gli ormoni interferiscono con la funzione dell'ormone tiroideo ma l'ormone tiroideo è estremamente importante per il neurosviluppo durante la vita fetale allora se questo è il quotiente di intelligenza medio 100 è visto che andare a contatto con queste sostanze con il FAS ad esempio porta il quotiente di intelligenza medio da 100 a 95 ci accorgiamo quando uno ha un quotiente di intelligenza di 100 rispetto a quello che ha 95 no probabilmente ma quello che succede è questo la curva si sposta a sinistra quindi raddoppia il numero delle persone che ha una disabilità intellettuale sono quelli che hanno un quotiente di intelligenza inferiore a 70 sostanzialmente si passa dal 2,27% della popolazione al 4,48% questo signore che è stato messo a capo dell'EPA l'Environmental Protection Agency da non mi ricordo ma è stato talmente sulle scatole il presidente degli Stati Uniti che c'era prima da Trump che ho cancellato persino il suo nome questo ha fatto dei disastri è andato al posto di questa signora e solo guardandoli io sono un pro lombroviano solo guardandoli mi fido più di questa di quanto non possa fidarmi del tuo soggetto poi questo è stato rimosso perché gli americani hanno protestato allora come funzionano gli interferenti endopini inducono stresso sidativo alterano l'epigenoma e alterano sostanzialmente il funzionamento degli ormoni però l'obesità dipende solo dai FAS ad esempio no ovviamente ci sono altri fattori l'allattamento del seno la dieta del bambino il sonno ve lo farò vedere com'è importante e l'attività fisica stessa ci sono solo gli inquinanti dell'ambiente esterno no gli inquinanti dell'ambiente interno sono forse ancora più pericolosi se la mamma per pulire la casa usa i detergenti spray questi vengono inalati la mamma in gravidanza innala i detergenti questi hanno un meccanismo epigenetico e partorirà un bambino che ha il doppio di probabilità di avere respiro sibilante persistente perché perché interferiscono con il sviluppo delle vie aeree maggiore è l'impiego di queste sostanze maggiore è il danno robe più banali se un bambino studi fatti su 800 neonati seguiti fino all'età di 7 anni se il bambino viene messo nel sacco nanna sintetico il sacco nanna viene utilizzato per ridurre il rischio di morte improvvisa nella culla perché il bambino non deve coprirsi se il bambino viene messo neonato dentro un sacco nanna sintetico aumenta da 4 a 3 volte il rischio che abbia asma all'età di 7 anni se dorme su un materasso sintetico il rischio di essere un asmatico a 7 anni aumenta di 2 volte se oltre al materasso sintetico ha anche le copertine sintetiche il rischio aumenta di 5 volte ed è un meccanismo epigenetico allo stress è importante durante la gravidanza la mamma non deve essere sottoposta a stress perché se è sottoposta a stress aumenta il rischio di partorire un bambino di basso peso alla nascita un bambino che ha immaturità comportamentale che si arrabbierà più facilmente che avrà problemi nel comportamento all'età di 4 anni ha un bambino che ha una riduzione del sviluppo della materia grigia quindi immaginatevi che cosa succede a quei bambini che sono stati fabbricati durante la pandemia quando tutti erano sotto stress possono avere disturbi cognitivi disturbi del linguaggio e possono anche avere un maggior rischio di asma o di dermatite atopica e questo è quello che si immagina che succederà adesso l'effetto della pandemia lo vedremo tra 10-20 anni perché come vi ha detto Ernesto prima se ho stress durante la gravidanza lo stress modifica la regolazione della produzione del cortisolo ma modifica anche la struttura e la funzione del cervello nel feto e quindi successivamente nel neonato ovviamente durante la gravidanza devo stare attento che non si prendano infezioni che la mamma non consumi alcol che non faccia uso di droghe che eviti alcuni farmaci e attenti all'intossicazione d'arsenico da piombo e da mercurio se fossimo dei politici che cosa dovremmo pensare sicuramente dovremmo preoccuparci dell'ambiente ve l'ha detto prima Ernesto allora uno studio fatto su cani cuccioli di cane di 8 settimane in città del Messico vengono sacrificati che cosa si vede che questi cani a livello cerebrale hanno già le alterazioni biochimiche e morfologiche che assomigliano a quelle dell'alziana se poi vado a sacrificare 8 cuccioli di cane che vivono invece in questa città per il controllo questi sono stati proprio sfortunati questi sono assolutamente perfetti ma questi danni si vedono anche in bambini che vivono a città del Messico e che sono morti per incidente stradale ve l'ha detto prima Ernesto e se facciamo delle risonanze magnetiche nei bambini di città del Messico il 56% di loro ha già delle lesioni prefrontali che assomigliano a quelle del Parkinson l'ha detto Ernesto prima se una donna passa la sua gravidanza vicino a una strada di intenso traffico aumenta di due volte il rischio di partorire un bambino che avrà disturbi dello spettro autistico allora questo signore ha fatto un mare dei danni ma anche noi li facciamo perché se ad esempio recentemente abbiamo avuto questa epidemia ed è stata collegata anche alla deforestazione i paesi in via di rifluto deforestano perché hanno bisogno di mangiare qualcosa e quindi deforestano per coltivare il terreno la deforestazione ha fatto sì che sia comparso adesso il coronavirus ma attenti perché ci sono altri virus che sono molto più pericolosi l'endra il nipa l'antavirus il marbur danno una mortalità del 90% allora noi abbiamo detto che tutto dipende dalle abitudini alimentari della gente da dove è partito il virus può essere anche vero però anche noi non ci comportiamo particolarmente bene non possiamo farci regalare l'ossigeno dall'Amazonia e dalle foreste africane e mandargli di ritorno metano secondo me dovremmo pagare una tassa per avere l'ossigeno allora non siamo dei politici ma questo signore ha detto che se un uomo dice che non è interessato nella politica lo si può paragonare a un uomo che sta negando e che dichiara di non avere nessun interesse per l'acqua allora che cosa possiamo fare per ridurre quello stimolo epigenetico che prima Ernesto ci ha documentato benissimo dobbiamo imparare a riciclare ridurre i rifiuti scegliere gli alimenti in modo sostenibile piantare un albero non consumare tanta acqua fare la spesa in modo portandomi via la borsa dove metto dentro le robe non usare sostanze chimiche usare le lampadine a basso consumo fare i volontari è utile ma dobbiamo essenzialmente educare queste due immagini le ho trovato ovviamente su google ma le ho messa perché un mio amico che abita a Cinesi che conosceva benissimo queste due persone mi ha detto loro dicevano che le varie mafie non verranno distrutte eliminate dalla magistratura dalla guardia di finanza dai carabinieri ma verranno ridimensionate moltissimo da un esercito di maestre della scuola elementare l'educazione è la cosa più importante è una cosa importante che potremmo approfittare di questo momento per sviluppare nei ragazzi ad esempio è l'intelligenza sociale allora magari ognuno di noi può pensare vabbè quello che facciamo noi è una goccia nell'oceano ma questa signora ha detto che senza quella goccia l'oceano non sarebbe la stessa cosa se fosse un politico mi occuperei metterei come priorità ancora prima della salute metterei la scuola e gli anni più importanti della scuola sono quelli che vanno dal quarto anno al settimo anno di vita e che cosa farei metterei i bianchi a rotelle non voglio criticare nessuno avrei messo una rotella sotto il banco avrei messo una rotella che il bambino possa muovere le gambe come se fosse in bicicletta perché perché si è visto che se durante la lezione di matematico e di italiano faccio muovere il bambino non sto dicendo di fargli fare un caos bestiale ma gli faccio fare un movimento coordinato sostanzialmente migliorano le funzioni cognitive di questo bambino se durante la scuola lo faccio muovere per dieci minuti ogni ora migliora la memoria di lavoro le funzioni cognitive e migliora l'autocontrollo sostanzialmente si è visto che dopo un anno di scuola se li faccio muovere un pochino migliorano sia in matematica che in lingua che sono le due funzioni intellettuali importanti per raggiungere ad esempio per riuscire a laurearsi e se li faccio muovere dopo un anno di scuola è come se avessero fatto un anno e mezzo di scuola ho un effetto immediato perché liberano delle sostanze chimiche i mediatori ma ho un effetto anche a lungo termine perché aumenta la geogenesi la neurogenesi la sinaptogenesi queste cose ho cercato di spiegarle alle maestre della scuola elementare dove andava la mia nipotina se mi chiedete se ho avuto successo zero allora immaginatevi qual è l'effetto di non andare a scuola adesso durante la pandemia ovviamente imparare a leggere e imparare a fare i conti è la cosa che più di tutto predice la probabilità che questo bambino poi si laurea se il bambino si laurea è più probabile che poi stia meglio dal punto economico ovviamente che sono a maggior rischio le minoranze etniche quando andava all'asilo Tommaso che mi sta ascoltando la mia preoccupazione qual era che imparasse a leggere subito presto che imparasse che 2 più 2 fa 4 erano cose importanti erano sciocchezze erano stupidate quando i neuroni hanno fatto il loro collegamento 2 più 2 fa 4 4 più 4 fa 8 ma bisogna aspettare che i neuroni si siano collegati che cosa è importante sviluppare nei bambini invece la tenacia la curiosità la disciplina l'ottimismo la grinta l'autocontrollo l'autostima alla mia nipotina spiegavo ho cercato di spiegare che l'autostima non dipende da quello che gli altri pensano di lei ma da quello che lei pensava degli altri e qua devo raccontarmi una roba quando ero direttore del dipartimento a un certo punto mi arriva una dottoressa giovane piangendo in studio che mi racconta che aveva litigato con un suo superiore e questo suo superiore a un certo punto gli aveva detto ma cosa vuoi tu che non sei nessuno allora alla dottoressa cosa ho detto due cose primo devi avere compassione di questa persona perché se ti ha detto così vuol dire che ha una scarsa sima di se stesso secondo cosa ho detto adesso non preoccuparti che ha calci in culo vado a prenderlo io un'altra cosa che bisogna perdonate l'espressione ma è l'unica che è efficace l'altra cosa importante bisogna insegnare ad attendere la gratificazione come imparano i bambini imparano essenzialmente giocando allora quando giocano da soli imparano a prendere decisioni imparano a capire quali sono le loro aree di interesse quando giocano con un altro bambino imparano a controllare il loro egoismo perché se barufano col suo amico quello non viene più a giocare quando giocano con gli adulti noi impariamo un mare di robe dai bambini se fossi un politico dovrei occuparmi della povertà e quindi dovrei aiutare i genitori a trovare un lavoro dovrei metterli in condizione di lavorare dovrei aiutarli come genitori se faccio questo i loro figli migliorano le aspettative di vita perché perché se uno vive in condizione di povertà e se vive in condizione di svantaggio è più probabile che non sia molto affettuoso con i propri figli e se non è affettuoso con i loro figli i loro figli non imparano l'affetto e questo danno epigenetico viene trasmesso attraverso numerose generazioni immaginatevi qual è l'effetto delle punizioni corporali Peter Sly che è quell'australiano che aveva messo in evidenza i fattori di rischio per tutte le malattie fattori di rischio ambientale mi raccontava le pene corporali in Australia non esistevano gli aborigini non avevano le pene corporali per i bambini le pene corporali sono stati iscritti dai missionari che sono arrivati in Australia che cosa succede adesso se mettete su PAMED child abuse e coronavirus vi vengano fuori 136 lavori immaginate cosa sta succedendo adesso se fosse un politico potrei fare un approccio a tre generazioni dovrei aiutare i genitori nel loro lavoro nel fare i genitori non solo nel portare a casa dei soldi ma potrei cercare di sviluppare l'intelligenza sociale nei ragazzi ad esempio che vanno alle medie o che vanno al liceo l'intelligenza sociale e l'intelligenza emotiva l'intelligenza emotiva è una cosa empatica i bambini ce l'hanno ho visto che ce l'hanno anche gli anatrocoli e i pulcini le galline sostanzialmente anche qua devo raccontarvi una storia a un certo punto nel giardino nel casa ci troviamo con due anatrocoli un anatrocolo poi per sfortuna scompare allora questo anatrocolo l'era da solo gli abbiamo preso un pulcino poi sono diventati adulti gli abbiamo messo in una gabbia perché se no venivano aggrediti dagli altri animali a un certo punto la gallina che era una gallina adolescente si fa male una gamba e non riesce più a muovere l'anatrocolo andava a prendere il mangime e la portava la gallina viceversa dopo l'anatrocolo si impegna con la testa dopo qualche settimana dentro nelle griglie del rete della gabbia l'anatrocolo la gallina è andato a sollevarlo per tirarlo fuori l'intelligenza emotiva ce l'hanno gli esseri inferiori allora che cosa devo insegnare ai bambini sostanzialmente devo insegnarli l'ascolto attivo devo farli da modello devo farli vedere come si fanno le cose devo insegnarli l'empatia provare l'empatia è molto più importante di leggere un manuale di come si fa a diventare genitore esperto devo insegnarli anche a praticare la cura di se stesso ci sono dei momenti in cui noi non siamo felici è meglio che lo diciamo non bisogna nascondere le proprie emozioni e dobbiamo anche comportati fare vedere che siamo degli esseri umani non siamo dei super uomini per cui delle volte sbagliamo sono dei momenti in cui siamo felici e in quei momenti in cui non lo siamo e dobbiamo far vedere è normale anche non star bene il professor Gaburo mi diceva ricordati a Tidio che quello che fai per i bambini passa attraverso a quello che fai per i genitori e il compito del pediatra non è occuparsi solamente del bambino ma è occuparsi dei genitori perché ad esempio il suo genitore non è pronto a preparare il suo bambino per andare a scuola questo bambino andrà a scuola in un momento in cui è vulnerabile dal punto di vista dello sviluppo farà fatica ad imparare ed è più probabile che abbandoni la scuola ma se abbandona la scuola è meno probabile che ottenga un lavoro soddisfacente e il pediatra può favorire tutte queste cose perché perché ha l'autorevolezza per farlo perché può parlare con gli educatori può parlare con chi fa politica questo signore ha detto la povertà non è avvenuta per caso la povertà come la schiavitù e l'apartheid è stata creata dall'uomo e può essere rimossa da azioni fatte dall'uomo se fossi un politico dovrei occuparmi di questi bambini i bambini della guerra adesso li vediamo molto meno perché adesso vediamo il coronavirus ma ci sono assolutamente ancora bambini che muoiono di fame per effetto della guerra il commissariato l'alta commissariato dell'ONU per i rifugiati è stato creato dopo 70 anni fa dopo la seconda guerra mondiale allora avevamo un milione e mezzo di rifugiati adesso ne abbiamo 60 milioni la metà di loro sono dei bambini e non dobbiamo aspettare tanto bisogna agir subito per questi bambini perché sappiamo già che cosa succede durante la seconda guerra mondiale alcuni bambini sono stati portati dalla Finlandia in Danimarca in Svezia avevano un'età media di 4 anni e 6 mesi e sono stati lontani dai loro genitori per quasi 2 anni quando sono stati seguiti nel tempo questi bambini da adulti avevano un rischio doppio di avere disturbi mentali fare uso di droghe essere depressi un rischio doppio di coronaropatia un rischio aumentato del 40% di avere diabete di tipo secondo e avevano in media la pressione arteriosa più elevata chi deve fare da avvocato per i bambini sostanzialmente tutto ovviamente tutte le società scientifiche pediatriche e ogni pediatra singolarmente deve farlo perché ogni pediatra è importante perché questo libro che viene pubblicato da un giornalista che faceva anche il fotografo nel 1890 e il libro il titolo del libro è come vive l'altra metà di noi e fa vedere ai new yorkesi dove la metà dei new yorkesi può andare a dormire di notte sostanzialmente questo ha fatto sì che la gente cominciasse a porsi delle domande e a chiedersi anche di chi fosse la responsabilità come conseguenza di questo libro nascono tutti gli ospedali pediatrici più importanti negli Stati Uniti il The Hospital for Sick Children di Boston Lariat Lane di Baltimore ma noi siamo dei pediatri e quando avevo 13 anni viene eletto questo signore presidente degli Stati Uniti mio papà mi chiama e mi fa voglio dirti che cosa ha detto questo signore che voglio che tu te lo ricordi non chiederti quello che gli altri possono fare per te ma chiediti quello che tu puoi fare per gli altri ovviamente lui parlava della nazione allora che cosa posso fare io come pediatra devo fare in modo che il bambino non aumenti eccessivamente di peso nei primi mesi di vita nei primi anni di vita che non abbia una dieta particolarmente ricca che non abbia un rebound adiposo precoce perché tutto questo aumenta il rischio che sia un ciccione aumenta il rischio di ridotta sensibilità all'insulina che sia un iperteso che abbia patologia cardiovascolare diabete di tipo secondo devo fare in modo che non sia esposto al fumo passivo e che non sia esposto a esperienze stressanti a volte non ci si riesce perché l'esposizione a queste cose aumenta il rischio di asma aumenta il rischio di bronchite croniche astruttive aumenta il rischio di disturbi mentali questo rischio lo corrono ovviamente di più i bambini che nascono piccoli per peso gestazionale e quelli prematuri ma anche chi nasce a termine quando nasceva un bambino piccolo per l'età gestazionale noi gli facevamo un'iniezione di decaduraboli un ormone anabolizzante perché volevamo farlo crescere il più presto possibile se faccio crescere molto rapidamente un bambino che è nato piccolo per l'età gestazionale aumenta il rischio che diventi un obeso aumenta il rischio che muoia di infarto una volta raccontavo queste robe davanti al procuratore generale di Verona e ho detto è abbastanza probabile che qualche bambino al quale io ho fatto fare l'iniezione di decaduraboli adesso abbia già fatto un infarto che magari non ci sia più più il procuratore generale di Verona mi guarda e mi fa professore non si preoccupi ormai è tutto andato in prescrizione ma qual è la cosa che bisogna fare bisogna fare in modo che il bambino recuperi ma deve raggiungere il cinquantesimo percentile non il primo mese non il terzo mese di vita lo deve raggiungere intorno ai sette anni questa è la crescita ottimale se non lo faccio crescere ho una compromissione del neurosviluppo allora l'obedità l'ha detto Ernesto prima è un problema ormai è una pandemia importantissima forse più importante del coronavirus allora qual è la prevalenza dell'obedità in età infantile 16% dei lattanti sono obesi se un lattante è obeso a sei mesi la probabilità che sia poi obeso a due anni aumenta di 13 volte li riconosciamo subito questi obesi vengono riconosciuti il 14% di chi è obeso al sesto mese e il 23% di chi è obeso al ventiquattresimo mese e sostanzialmente poi il body max index va sui binari del treno se questo è obeso continuerà ad essere obeso i due terzi dei soggetti obesi da bambini restano obesi da adulti questa è la depositi rebound il body max index si riduce nei primi 5-6 anni di vita perché uno aumenta molto più in altezza che in peso e poi il body max index comincia a risalire se uno ha una depositi rebound prima dei 5 anni vedete l'8,6% di chi ha un adipositi rebound precoce sviluppa poi diabete di tipo secondo contro meno del 2% di chi ha questo rebound dell'adiposità del body max index in epoca normale il body max index è uno studio fatto su 2 milioni e 3 di adolescenti israeliani seguiti nel tempo man mano che aumenta il body max index più alto il body max index più alto è il rischio di morire per infarto ma anche chi ha un body max index al cinquantesimo percentile ha un rischio aumentato per cui l'ideale è avere un body max index compreso tra il 25 e il 49 percentile in pratica non bisogna far diventare ciccioni i bambini allora che cosa posso fare perché un bambino non diventi obeso mi dovrei studiare la teoria del comportamento pianificato mi dovrei studiare questa teoria che non sono nemmeno capace di tradurre mi dovrei studiare la terapia cognitivo e sociale dovrei fare ad ogni visita tutte ste robe qua e spuntare tutta sta roba qua ma siccome sono un pediatra ruspante mi accontento di consigliare alla mamma quando divezza il suo bambino quando passa al biberon di usare dei biberon più piccoli perché se la mamma usa un biberon al di sopra dei 180 ml aumenta il rischio che questo bambino diventa obeso usare un biberon più piccolo è già un sistema per dargli meno da mangiare l'altra cosa che devo cercare di fare è di insegnare la mamma a mettere a letto il bambino presto e di farlo dormire il sonno è l'unica attività sedentaria che non fa ingrassare infatti vedete che il rischio di avere obesità infantile se ho insegnato la mamma a mettere a letto il bambino il rischio che questo bambino diventi obeso si dimezza sostanzialmente in età prescolare eccolo qua la prevalenza di obesità nell'adolescente nel 10% dei bambini che in età prescolare andavano a letto prima delle 8 di sera 16% se vanno a letto tra le 8 e le 9 chi va a letto dopo le 9 di sera in età prescolare nel 23% dei casi obeso roba semplicissima in pratica mettere a letto un po' più presto di mezzo il rischio che questo sia obeso se li metto a letto più presto anche si riducono i disturbi del comportamento l'altra cosa importante che devo fare come pediatra è fare in modo che l'adolescente non diventi un fumatore allora quando ero giovane facevamo i corsi antifumo alle scuole elementari i corsi antifumo alle scuole elementari erano sponsorizzati dalla Malboro l'ha scoperto la Elif Dagri la plenobloga di Istanbul perché la Malboro sponsorizzava quei corsi perché sapeva benissimo che perdevamo tempo allora dire a un bambino elementare non fumare perché ti viene cancro al polmone lui ci crede ti dice non fumerò mai poi quando diventa adolescente copia quello che fanno i genitori ogni volta che uno si allunga si accende una sigaretta si accorcia la vita di 11 minuti e una persona su due muore prima per effetto del fumo non solo di cancro del polmone l'Elif Dagri cosa aveva scoperto la pneumologa turca una pediatra bravissima aveva non so come ha fatto ma è andato a unire report interni della Malboro e avevano visto che poiché si riduceva il numero delle persone aumentava il numero delle persone che da adulti smettevano di fumare bisognava far cominciare di fumare prima allora il sistema giusto era far sì che noi andassimo a parlare nei posti dove non serviva assolutamente niente allora come pediatra come posso capire se un bambino è esposto al fumo devo fare una serie di domande non è sufficiente dire ma lei fuma perché ti rispondono tutti di no e ti dicono sempre che fumano sul poggiolo eventualmente ma bisogna chiedere se il bambino vive con fumatori non se fuma vive con fumatori vive con qualcuno che si prende cura di lui che è un fumatore va in posti dove ci sono i fumatori c'è qualcuno che fuma in casa vostra qualcuno che fuma nella vostra macchina ma dovete riconoscere lo fumatore vedete sentite l'odore e vedete anche la pelle quando si chiede a un adolescente se fuma bisogna partire se fumano i loro amici non chiedere a lui se fumi perché ha paura a dirtelo allora parti dagli amici e poi chiedi se anche lui fuma e poi l'altra cosa da chiedere importante è se i loro se i suoi amici fumano la sigaretta elettronica e poi passate a chiedere se la fuma anche lui perché se un adolescente gli adolescenti iniziano con la sigaretta elettronica se fuma la sigaretta elettronica si ha il 69% di probabilità uno ratio di 8 e 5 che poi diventi un fumatore abituale vediamo se riesco a tornare indietro eccolo qua allora come è importante far smettere di fumare i genitori assolutamente sì perché è l'unico mezzo che io per ridurre il rischio che un adolescente diventi fumatore una volta come facevo saltavo adosso i genitori ero abbastanza aggressivo ma se li aggredisco in fase di pre-contemplazione non cambia assolutamente niente questa è la teoria degli stati del cambiamento di Procasca e di Clemente se voglio far smettere di fumare qualcuno se voglio far smettere di bere qualcuno se desidero che qualcuno mangi meglio e di meno devo tenere presente che questo soggetto passa dalla fase di pre-contemplazione non ha nessuna intenzione di cambiare alla fase di contemplazione in cui dice forse il medico non ha tutti i torti poi si prepara e comincia a fare l'azione poi entra in azione poi mantiene alcuni ricadono devo intervenire in questa fase non in questa qua faccio un buco nell'acqua e devo poi dargli un supporto un supporto ad esempio è il ceroto di nicotina ma un supporto molto più efficace fatevi la fotografia di questa diapositiva è per scrivere la citisina la citisina è un estratto dell'erba del maggio ciondolo sono le foglie del maggio ciondolo le fumavano in tempo di guerra perché non trovavano le foglie di tabacco e si erano accorti che fumando queste foglie di maggio ciondolo gli passava la voglia di fumare adesso si estrae la citisina si prendono da due compresse al giorno si arriva a prendere fino a sei al giorno ti toglie la voglia di fumare le probabilità di successo sono molto alte è un preparato galenico che costa dai 30 ai 40 euro lo stress poi devo stare attento che i bambini non siano sottoporti a stress poco prima che lasciassi l'ospedale avevo cercato di introdurre senza alcun successo questa cosa che mi era stata regalata da una pediatra americana che sono le promesse che devono fare i genitori al loro neonato chiamarlo incondizionatamente di nutrirlo nel modo più adeguato di proteggerlo dai pericoli di trattarlo con rispetto di insegnarli a imparare dai suoi errori di ridere con lui di giocare con lui di confortarlo nei momenti in cui è triste di incoraggiarlo a sviluppare i suoi talenti di sopportarlo finché sta battagliando per raggiungere i suoi obiettivi di essere aperto e onesto con lui e di essere con loro per tutto il resto della nostra vita allora un'altra cosa che siccome la metà dei genitori si separano un'altra cosa che bisogna insegnare ai genitori è a separarsi in modo civile e sostanzialmente a non mettere il bambino in conflitto di lealtà cosa vuol dire che quando il bambino è con la mamma la mamma deve dirgli che il suo papà è il papà migliore del mondo e viceversa quando è col papà il papà gli deve dire che la sua mamma è una mamma meglio di così non poteva averlo metterlo in conflitto di lealtà è il danno peggiore che possiamo fare a un bambino uno studio fatto in Germania su queste cose il rischio di sviluppare la dermatite atopica il 21% dei bambini in Germania sviluppa dermatite atopica il rischio aumenta di quasi due volte se i genitori si separano quando il bambino è nei primi due anni di vita ma aumenta di quasi quattro volte se i genitori si separano tra il secondo e il terzo anno di vita e capita a tutti i pediatri che i genitori vengono a chiedervi ci stiamo separando gli facciamo del male al bambino e la battuta che faccio in congresso e non la faccio qualche volta la faccio anche con loro dico la cosa migliore per i bambini è che uno di due si suicidi perché se muore uno dei genitori il rischio che il bambino sviluppi se muore nei primi due anni di vita il rischio che il bambino sviluppi dermatite atopica si riduce del 36% se muore tra il secondo e il terzo anno di vita il rischio si riduce del 56% Ernesto vi può spiegare quali sono i meccanismi epigenetici il bambino che resta con un genitore viene coccolato incredibilmente allora un'altra cosa che non sono riuscito a fare insieme con Franco Paino un eropsichiatra eccezionale bravissimo 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 mi sono dimenticato di invitarlo Franco stasera allora con Franco abbiamo detto si fanno i corsi per le mamme prepartano bisogna fare i corsi anche per i papà perché vanno in condizioni di stress il 37% delle mamme e il 13% dei maschi Franco Paino ha detto riassunto del corso per il papà deve essere questo purtroppo me l'ha detto molto tardi se me l'avesse detto prima forse sarebbe stato meglio bisogna dire al maschio ricordati che tu non sarai più il numero uno per tua moglie sarai sempre il numero due il numero uno diventa il cucciolo corsi per le mamme la mamma recupera rapidamente chi è che non recupera recupera le mamme che sono single recuperano le mamme che hanno avuto esperienze traumatiche le mamme che hanno otto figli allora è importante identificare la depressione della mamma è facilissimo con la scala di Edimburgo dieci domande se lo score è superiore a dieci la mamma è depressa sono riuscito a introdurre questo test no questo è il motivo per cui ho scritto non ho messo se fosse ostetrico ma ho messo se fossi un nonno ma se la mamma è depressa durante la gravidanza coccolerà poco il suo bambino e avrà un bambino che sarà a rischio di essere un drogato a dodici anni o di avere un comportamento criminale all'età di 19 anni le coccole sono importantissime sono importantissime anche anche quando si è più grandi e dopo vi racconterò una storia Ernesto lo conosce benissimo sta roba qua sono delle topoline che hanno un comportamento spontaneo che viene definito arching leaking and grooming cioè quando allattano il cucciolo si inarcano così il topolino trova più facilmente la mammella dopo che hanno finito di allattarlo lo accarezzano e con la lingua lo puliscono allora se voglio mettere in crisi un topo da adulto basta inserirlo in un cilindro d'acqua stretto allora i topi che sono nati dalle mamme che li hanno allattati e basta continuano a muoversi e in 30 secondi vanno incontro all'esaurimento muscolare non ce la fanno più e affogano i topolini adulti che sono nati dalla mamma archi leaking and grooming capiscono in 20 secondi che se stanno fermi galleggiano e non affogano se poi vengono sacrificati tutti quanti che cosa si vede si vede che esprimono diversamente i geni non si modifica la genetica ma si modifica l'espressione dei geni che controllano lo stress allora immaginatevi quando uno un bambino è nato in una famiglia povera in una famiglia dove non si andava tanto d'accordo oppure un bambino che veniva semplicemente ignorato quello può essere l'effetto e la storia è questa poco prima che mia mamma morisse come al solito l'ho baciata e quella volta lì mi viene in mente il dirgli mamma ma tu non mi baci mai mia mamma non mi ha mai baciato lei è rimasta orfana che aveva quattro anni suo papà ha avuto la buona idea di andare in Africa invece di prendersi cura dei tre figli quindi mia mamma è stata adottata dalla zia che l'ha trasformata nella donna di servizio delle sue cugine quindi mia mamma non ha avuto l'imprint mia mamma non mi ha mai baciato ti dico così poco dopo va un mio amico a fargli un ortopedico di cui mia mamma era innamorata io non volevo assolutamente che lo facesse gli ha fatto un'iniezione intraarticolare col cortisone fatto sta che fa dopo poco un osteomelite fa una sepsi va a finire in rianimazione resta priva di coscienza per 20 giorni la mia fortuna è che ero davanti a mia mamma e mi commuovo adesso nel momento in cui si sveglia e gli tolgono il casco per ventilarla lei mi guarda e comincia a farmi così comincia a baciarmi e lei mi stava sostanzialmente riparando il DNA allora io ho una parte spero che voi riusciate a vedere tutto mio figlio mi aveva insegnato come si fa a nascondere questa griglia qua ma non ce la faccio consigliate ai genitori questo libro facili da amare difficili da disciplinare mi pare che l'autore sia la Beckley una psicologa americana insegna il potere dell'autocontrollo e delle competenze disciplinare come pediatri noi abbiamo dei canarini ve lo fate vedere Ernesto sono scomparse allora sono aumentate le patologie degenerative sostanzialmente lo schiaro di multipla il Crohn ma sono aumentate anche le malattie allergiche l'asma qual è il vantaggio perché è aumentata tutta sta roba perché c'è infiammazione di fondo perché il mondo è cambiato e noi andiamo incontro a un'infiammazione ma le malattie allergiche arrivano prima della sclerosi multiva arrivano prima dell'infarto ad esempio un bambino che ha la dermatite atopica ha un rischio aumentato dell'87% di avere un difetto dell'attenzione qua vi ho messo un link che poi vi manderò per vedere come si cura bene la dermatite atopica bisogna curarla bene perché la dermatite atopica non è una malattia della pelle e basta siccome determina l'infiammazione può diventare una malattia del sistema nervoso centrale siccome il bambino che ha dermatite atopica ha prurito si gratta di notte e continua a svegliarsi ma lo sviluppo cerebrale si realizza essenzialmente durante le ore notturne allora un bambino che ha dermatite atopica da piccolo ha un rischio aumentato di essere depresso di essere ansioso aumenta di tre volte il rischio di sviluppare autismo aumenta anche il rischio delle acerechie di quattro volte la bronchiolite chi sviluppa la bronchiolite va in ospedale e nasce adesso vado via veloce non vi do i dettagli nasce con le VR più piccole avendo le VR più piccole quando si infiamma va incontro a limitazioni di flusso molto di più e finisce in ospedale deve essere ventilato ma chi ha la bronchiolite ha un rischio poiché nasce con le VR più piccole ha un rischio aumentato di quasi quattro volte di diventare un asmatico allora per molti anni noi abbiamo detto che la bronchite cronico-ostruttiva dell'adulto era una malattia che uno si auto-infliggeva cioè questo è lo sviluppo del polmone arriva al massimo a 30 anni poi siccome è fumatore il polmone viene danneggiato e perde in funzionalità respiratoria non è solo così perché la metà dei soggetti che sviluppano bronchite cronico-ostruttiva sono dei soggetti che non hanno raggiunto il volume polmonare ottimale questo dipende da noi perché questo rischio lo occorrono quelli che hanno un difetto di vitamina D e questo rischio lo occorrono anche quelli che hanno sensibilità multiple allora aver la bronchiolite non è solo un problema del polmone perché se uno se vado a misurare lo sviluppo mentale a tre anni questo è lo sviluppo mentale nei bambini che non hanno mai avuto respiro sibilante nei primi due anni di vita questo è lo sviluppo mentale nei bambini che hanno avuto respiro sibilante o nel primo anno o nel secondo ma se uno è stato male per 24 mesi il suo sviluppo mentale si riduce questo è lo stress ossidativo il selenio può modificare questa cosa uno che ha asma ha un rischio aumentato di due volte di avere difficoltà di rettura e anche qua è un meccanismo legato allo stress ossidativo uno che ha asma un rischio aumentato di avere iperattività un rischio aumentato di essere depresso di avere ansia questo dato è altrettanto importante se un bambino russa ha respiro delle apnee ma anche semplicemente russare nei primi tre anni di vita ha un rischio aumentato del 38% di avere bisogno dell'assistente di sostegno a otto anni e quindi devo fare qualcosa lavargli il naso decongestionarlo è importante e qua è un filmato che potete far vedere ai genitori di come si lava il naso il naso bisogna lavarlo non bisogna bagnarlo bisogna usare volumi il rischio vedete c'è per il bambino che ha respiro rumoroso russa sostanzialmente al sesto mese al diciottesimo mese e anche in epoche successive della vita qual è il meccanismo? è lo stress ossidativo lo stress ossidativo modifica alcuni sviluppi dei neuroni a livello dell'ipocampo e la corteccia cerebrale e sostanzialmente questi autori dicono che se utilizzo delle sostanze antiossidanti posso mitigare questo effetto essere allergico aumenta anche il rischio di avere un aterosclerismo sostanzialmente di due volte e mezza e un altro studio di quasi quattro volte ci sono delle cose molto semplici che posso fare ad esempio voglio che un bambino non sviluppi la dermatite atopica nel primo anno di vita è opportuno introdurre lo yogurt nel primo anno di vita è opportuno introdurre alimenti per il diversamento più alimenti introduco modifico la flora intestinale introduco sostanze con effetto antiossidante e meno è probabile che questo bambino sviluppi la dermatite atopica se li faccio mangiare pesce almeno due o tre volte al mese non tantissimo di mezzo al rischio che sviluppi la dermatite atopica anche il Mario Negri allora se lo dice il Mario Negri va bene allora anche il Mario Negri dice che sostanzialmente di mezzo riduco del 60% il rischio che un bambino sviluppi la dermatite atopica divezzandolo dopo la diciassettesima settimana di vita l'altra cosa che posso fare nasce un bambino da una famiglia che sono tutti con la dermatite atopica comincio a ungerlo con degli oli particolari si riduce il rischio che questo bambino sviluppi la dermatite atopica lo dimezzo perché perché miglioro l'effetto barriera della cute non devo utilizzare dei detergenti che contengano dei surfactanti anionici perché perturbano danneggiano la cute del bambino e quindi gli allergeni passano più facilmente se il bambino sviluppa dermatite atopica ho un rischio aumentato di quasi tre volte di diventare un allergico la devo curare subito la dermatite atopica e non con l'antistaminico che non serve assolutamente a niente perché per ogni anno in più che la lascio lì aumenta del 21% il rischio che il bambino diventi allergico alle sostanze inalanti e quindi che sviluppi asma diventare allergico precocemente è uno svantaggio assolutamente sì per quanto riguarda l'asma studio fatto in Canada un gruppo di bambino studio di prevenzione primaria metà bambini sono 500 bambini metà evitano il contatto con gli acari l'altra metà serve di controllo chi diventa allergico all'acano nel primo anno di vita e continua a essere allergico a 7 anni ha un rischio aumentato di 15 volte di essere un asmatico se diventa allergico tardi il rischio aumenta ma di 2 volte non di 15 studio fatto in Inghilterra evito il contatto con questo è sempre lo studio scusatemi sempre lo studio canadese a 7 anni sviluppano asma il 15% di chi evita il contatto con gli acari contro il 23% del gruppo di controllo risultati migliori li hanno ottenuti in Inghilterra dove a 8 anni chi evita il contatto con gli acari è meno probabile che abbia asma che abbia dermatite atopiche che abbia rinitia allergica che sviluppi atopia questo è un altro studio importantissimo studio fatto a Manchester dividono i bambini in due gruppi per evitare gli acari gli hanno rifatto la casa questi bambini li hanno seguiti per 3 anni a 3 anni la prevalenza di allergia all'acaro era uguale nei bambini ai quali hanno rifatto la casa e nei bambini del controllo erano tutti allergici con la stessa prevalenza perché basta andare a dormire due notti dalla nonna dove non c'è il controllo ambientale e sviluppi sensibilità si chiama chirune effetto però che cosa dimostrano di importante a Manchester questo se la funzionalità respiratoria a 4 settimane era identica in chi poi eviterà gli acari e invece in chi fa da controllo quando si fa la funzionalità respiratoria le resistenze allora sono tutti allergici ma le resistenze polmonari sono molto più alte nel gruppo di controllo rispetto a chi ha evitato gli acari sono allergici tutti e due ma questi non essendo esposti all'acaro hanno i polmoni che hanno le vie aeree che sono più perbie sostanzialmente e la funzionalità respiratoria va sui binari del treno se un bambino ha tre anni che respira male quello sarà un vecchiotto che respira male lo stress ossidativo è importante modello animale prende un topo che non si difenda dello stress ossidativo diventa allergico con estrema facilità qual è l'esposizione allergenica più pericolosa l'allergene del topo quasi finito allora uno studio fatto in lavoratori che venivano assunti nelle fabbriche degli topi per esperimento se si misura la capacità di difendersi dello stress ossidativo diventavano sostanzialmente allergici quelli che al momento dell'assunzione in questi laboratori sostanzialmente avevano capacità antiossidanti ridotte questa è la via di traduzione del segnale che avete visto più volte stimola la via del nuclear factor Kb sviluppo infiammazione quella famosa infiammazione di cui vi parlava Ernesto prima il magnesio ad esempio è un oligoelemento importantissimo per ridurre l'infiammazione che cosa hanno visto in Svezia che se un bambino mangia tanta frutta e verdura le probabilità che si sensibilizzi agli allergeni si riduce del 27% la probabilità che diventi un asmatico si dimezza sostanzialmente qual è la frutta e la verdura stimola la via dell'NRF2 che mi produce citopine antinfiammatorie attenua un po' l'attivazione del nuclear factor Kb e l'attivazione del nuclear factor Kb che fa morire le persone fragili di cui vi parlava prima Ernesto per il coronavirus la quercitina ad esempio chi prende uno studio fatto su 10.000 soggetti uomini e donne chi ha un apporto importante di quercitina si riduce la mortalità per infarto per polmone meno probabile che abbia l'asma che abbia il diabete i bambini che non mangiano frutta hanno le viere che si sviluppano di meno i bambini che mangiano uva lo studio fatto a Creta l'uva meno di una volta al giorno o più di una volta al giorno se mangi uva e frutta le probabilità di avere respiro sibilante uva e mela scusatemi resveratrolo e quercitina sostanzialmente si riduce l'80% il rischio di essere un asmatico consiglio per gli adulti allora chi consuma il resveratrolo il vino rosso ha un FVC a volumi polmonari più alti chi consuma il vino bianco ha dei flussi polmonari più elevati qual è la roba pratica noi che possiamo bere il vino dobbiamo bere un po' di quello rosso e un po' di quello bianco un'altra cosa che può essere utilissima quando divezziamo il bambino aggiungiamogli un baccello di soia perché bastano quantità in microgrammi di soia la soia ha un effetto epigenetico e migliora la funzionalità respiratoria bastano microgrammi la curcuma antiossidante studio fatto in Cina questi consumano curcuma meno di una volta ogni sei mesi questi più di una volta alla settimana che consuma più curcuma ha una funzionalità polmonare migliore livelli ottimali di vitamina D mi fanno ottenere una funzionalità respiratoria migliore come va supplementata la vitamina D in dosi giornaliere Scott Weiss che è l'epidemiologo di Harvard dice se la supplementiamo in dosi mensili ho delle fluttuazioni e dell'effetto epigenetico delle fluttuazioni dopo lo chiediamo a Ernesto ma secondo Scott Weiss aumenta anche il rischio di neoplasie sta roba qua faccio andare su tantissimo la vitamina D dopo va giù ecco la curva di mortalità bassi livelli di vitamina D si muore più facilmente quando raggiungo livelli che sono compresi tra intorno ai 40 nanogrammi millilitro vedete che la curva di mortalità per qualsiasi causa praticamente raggiunge un plateau l'ha detto prima Ernesto stabilizzo il DNA questo non mi ricordo più perché l'avevamo messo le infezioni respiratorie anche questo è importante tenere il naso lavato ma l'abbiamo visto prima a proposito dei bambini che russano la cosa che posso fare per ridurre il respiro sibilante è supplementare i bambini con zinco e selenio perché il difetto di zinco e di selenio in difetto di zinco faccio più infezioni dell'apparato respiratorio in difetto di zinco nell'anziano aumenta del 39% il rischio di morire per qualsiasi motivo il rischio di zinco aumenta di 5 volte il rischio di diventare allergico l'altro minerale importante è il ferro allora come facciamo a accorgersi che un bambino può avere una carenza di ferro facendolo in emocromo perfetto la sideremia la ferritina la trasferrina ma ci sono dei segnali che sono importanti per il bambino è un bambino che si vergogna facilmente è un bambino che è più difficile da consolare è un bambino che usa meno i neuroni a specchio tu gli fai bau bau e lui non ha nessuna emozione queste modificazioni si verificano anche semplicemente per la carenza di ferro anche se non è così basso da determinare l'anemia bisogna correggerlo entro il 24esimo mese di vita perché se non lo corrego entro il 24esimo mese di vita questo avrà degli effetti permanenti la timidezza ad esempio sarà un bambino timido è un bambino che tollera meno la frustrazione è un bambino che è difficile da consolare l'abbiamo già visto è un bambino che non sarà in grado di attendere la gratificazione attendere la gratificazione è importante questo è un marshmallow l'esperimento del marshmallow un esperimento fatto 40 50 anni fa avevano preso dei bambini in età prescolare li mettevano davanti una caramella e gli chiedevano ne vuoi una subito o ne vuoi tre o quattro ma devi aspettare un pochino quelli che la volevano subito era meno probabile che si laureassero quelli che aspettavano invece erano andati a Harvard o a Yale l'anemia quindi deve essere corretta prima del 24esimo mese di vita il ferro è importante per la memoria e infatti è importante per la memoria e lo dimostra questo fatto se in età prescolare ho un difetto di primi 24 mesi ho un difetto di ferro la percentuale di bambini che non completano la scuola secondaria è del 58% quelli che hanno invece a livelli ottimali non completano la scuola nel 19% quelli che hanno un difetto di ferro hanno quasi l'84% di probabilità di non sposarsi allora da pediatra lo spante cosa faccio l'emocromo a tutti è raccomandato di farlo al primo anno di vita ma è sufficiente ad esempio a fare in modo che il bambino dopo il divestamento non prenda più di 250 ml di latte perché hanno un difetto di ferro non ce l'hanno sostanzialmente quelli che prendono fino a 200 massimo 250 ml di latte quelli che ne prendono mezzo litro hanno un difetto di ferro quindi questo è un trucchetto semplicissimo l'altro trucchetto è quello di utilizzare i lati fortificati l'altra cosa ve la dico molto rapidamente non bisogna utilizzare gli inibitori di pompa non bisogna neutralizzare la secrezione accia dello stomaco perché tutto questo aumenta il rischio di malattie allergiche quali sono le conclusioni questo è quello che ha detto David Becker quello che ha messo a punto la teoria dell'origine fetale della salute della malattia lo ha detto poco prima di morire dice le prossime generazioni non devono soffrire non dovrebbero soffrire di patologie cardiache di osteoporosi perché queste malattie non sono scritte nel nostro genoma possono venire fuori per un effetto epigenetico queste malattie non esistevano praticamente 100 anni fa sono malattie non necessarie e noi possiamo prevenirle allora se hai fatto il calcolo quanto costa prevenire la patologia cardiovascolare nei 20 paesi più sviluppati costa 120 miliardi di dollari che devono essere spesi tra il 2015 e il 2030 mare di soldi che però tradotti in quanto costa per ognuno di noi 1 euro e 50 ogni anno quindi non costa assolutamente niente quindi se noi cominciassimo a occuparci della donna in gravidanza e del bambino nei primi anni di vita noi pagheremo uno per ottenere due e questo lo dobbiamo chiaramente dire ai politici altra cosa importante è l'educazione educare i bambini fa parte della è descritto nella carta dei diritti del bambino che cosa dice questa carta dei diritti che noi dovremmo insegnare i bambini anche a rispettare il loro ambiente e i pediatri hanno un ruolo importante da fare il futuro dei bambini dipende da quello che noi facciamo o non facciamo oggi questa signora che era direttore generale dell'organizzazione mondiale della sanità anche solo guardando le fotografie mi direte che sono eccessivamente lombroviano mi fido più di questa signora di quello che è adesso in dialetto veronese allora questa signora dice sono 250 milioni di bambini che hanno meno di 5 anni che non riusciranno a raggiungere il loro potenziale in rapporto alle avversità che incontreranno nei loro primi anni di vita e quando si tratta dello sviluppo del bambino dobbiamo agire subito questo signore che anche lui era uno che si arrabbiava probabilmente avrà avuto una carenza di ferro da piccolo sua mamma ha fumato ma però ha detto una roba importante e quando dice sta roba qua la dice in occasione scusatemi col monito che sta abbiamo finito la dice in occasione questa battaglia questa è la battaglia di Dunkerque questi sono gli inglesi che vanno a prendersi con le barchette i loro soldati c'era anche Mr. Wolf lì sopra Mr. Wolf è un inglese amico di mio papà mio papà è stato un grande padre e quando avevo 13 anni mi ha messo sul treno e mi ha detto tu scendi dal treno domani sera va bene quando il treno si ferma vai giù dal treno e trovi uno con un cartello con scritto attiglio quello mio amico inglese non c'erano i telefonini mi ha mandato via a 13 anni un grande un grande mi ha mandato da un suo amico ma io ho imparato un mare di robe così quando mio figlio non torno a casa l'ora che io mi aspetto ha 41 anni mi preoccupo se telefonargli o non telefonargli ma questo signore torniamo qua ha detto in occasione della sconfitta del Zankar quando si portava le sue truppe a casa ha detto in un momento come questo non c'è più niente di più importante di maggior investimento per una comunità che mettere nel latte dentro nella pancia dei bambini in questa situazione e quest'altro signore ha detto che il mondo non è un posto pericoloso dove vivere perché c'è la gente che fa del male ma perché c'è la gente che guarda e non fa assolutamente niente vi ringrazio per la vostra attenzione e questo è un regalo che io faccio a me stesso perché siccome avevo bisogno di coccole questa sera ho ripescato una diapositiva adesso la mia nipotina è molto più grande di così e non posso più usare le sue fotografie ma è un regalo che volevo farmi perché la volevo rivedere grazie per la vostra attenzione grazie grazie a te Attilio per questa bellissima bellissimi messaggi informazioni che ci hai dato ma soprattutto sono particolarmente contento perché tu sia tu sia Ernesto avete parlato con la testa con il cuore di un pediatra adesso Pino scusami se mio figlio venisse a aiutarmi a tirar via lo schermo da qua che ho paura di perdere tutto sarebbe una gran bella roba non succede nulla nulla di particolare dicevo quindi il ringraziamento particolare che non è da tutti parlare di pediatra perché quando si diceva si dice il pediatra non è uno specialista di organo ma è un medico che vede tutto il bambino che non è non è una cosa semplice spiegare tu l'hai spiegato in modo veramente eccezionale parlare di pediatria e parlare di supporto alla genitorialità responsiva parlare di disabilità patologie croniche fragilità povertà sono termini parole azioni attività che il pediatra deve conoscere il vero pediatra se non ha quell'antenna oltre alla prevenzione anche quell'antenna sociale oggi non può fare un buon lavoro tu ce l'hai spiegato molto bene i bambini imitano i genitori e quindi noi dobbiamo agire anche sui genitori se vogliamo avere risultati caro Attilio sono cose importanti importantissime perché 20 30 anni fa non si agiva così ma anche oggi i giovani gli specializzanti e qui ci sono diversi direttori di cattina di corsi di specializzazione che ci ascoltano oggi i giovani possono essere molto molto bravi competenti nelle nelle linee guida nel saper fare come curare una serie di patologie ma quelle che noi abbiamo tirato fuori stasera va veramente recepito portato a casa incentivato e mi auguro che appunto i tantissimi partecipanti ce lo mettiamo ben nella mente il nostro nuovo ruolo di oggi scusate ma questo ci tenevo in modo particolare io voglio leggere vi do passiamo subito alle alle domande ringraziamenti vanno a veramente a tutti i partecipanti e iniziamo gli effetti epigenetici delle vaccinazioni anti covid sulle generazioni future e sulle persone vaccinate non so se Ernesto vuole dire qualcosa o Attilio effetti epigenetici delle vaccinazioni Ernesto ci sei sempre io ci sono credo che facciamo un incontro fra una quindicina di giorni ne parliamo perché dedicare un incontro a quello che sono attualmente queste diverse piattaforme vaccinali i vantaggi e le criticità l'efficacia e il rischio insomma è un discorso dedicato e complesso io non me la sentirei di fare oggi un'affermazione siamo di fronte a questo grosso problema che però comunque c'è e che dobbiamo ancora valutare quello di AstraZeneca e cioè se è vero che una parte di questi incidenti tromboembolici siano in qualche modo attivati o indotti dalla spike o dal vettore eccetera non sappiamo è troppo difficile anche quantificare poi per le generazioni future il discorso per cui sicuramente per quello che ne sappiamo i vaccini le piattaforme RNA non dovrebbero avere inconvenienti di questo tipo perché quello che sappiamo è che questi pseudo RNA virtuali letteralmente biosintetici e disegnati a computer non dovrebbero poter entrare nel genoma e quindi essere trasmessi qualche perplessità anche in questo caso possiamo averlo per un virus di scimpanse con una spike dentro perché che in parte possa essere inserito e trasmesso vale però anche per i virus da strada vale anche per altri antigeni quindi oggi è troppo presto per fare una valutazione critica su questi aspetti e poi soprattutto se la vogliamo fare facciamola in un confronto in cui vengono fuori tutti gli aspetti legati a una vaccinazione importante ma forse un po' precipitosa nei tempi perché indubbiamente avere accelerato molto nella sperimentazione ha tolto un po' di margini di sicurezza e di efficacia io lo farei con più calma però una valutazione poi se Attilio vuole invece chiarire su aspetti più specifici non so no Ernesto io sarei ancora più sul generale i pediatri parliamo dei pediatri devono riuscire a sviluppare la capacità negativa cioè la capacità di restare nell'incertezza non abbiamo solo certezze con sta pandemia la capacità di restare nell'incertezza è una cosa importantissima l'altra cosa che dobbiamo conoscere è il panico morale quando è stato ritirato il vaccino AstraZeneca è il panico morale questo allora si identifica un colpevole ne parlano in media il panico morale è stato descritto non mi ricordo più da chi da Stanley mi pare e ha cinque passaggi il passaggio peggiore è quando viene recepito dal politico allora l'AstraZeneca se a me dicessero ti vaccino con l'AstraZeneca me lo prendo nessun problema c'è il problema tromboembolico perfetto mi prendo quando le le mie amiche che hanno la mia età e quindi le veciote mi dicono posso fare sì prendi l'aspirinetta due giorni prima di farti il vaccino e prendela per due settimane dopo che ti hai vaccinato che non si sa mai perché perché il rischio tromboembolico c'è per le due settimane l'altra cosa che dico prendi il magnesio perché il magnesio è un antiaggregante delle piastrine dopo gli dico altre cose da prendere perché anche la curcuma è un antiaggregante delle piastrine anche il resveratrono è un antiaggregante delle piastrine allora se ho un morto su 300.000 ma ho 500 morti al giorno bisogna essere pragmatici come gli inglesi che sono passati da 50.000 casi al giorno a 5.000 perché? perché è il vaccino a tutti e a quasi zero e alcuni giorni questo è il panico morale andate lo mettete sul culo e viene fuori tutti i passaggi grazie perfettamente d'accordo caro Ernesto in pratica hai aggiunto l'esposoma e l'epigenoma alle scienze omiche in allergologia noi siamo ora in attenzione verso le molecole sappiamo però che a breve dovremo dedicarci agli epitopi ti chiedo a tuo parere dopo l'esposoma e l'epigenoma avremmo altre tappe da considerare? ma non so se ho capito bene perché se vuole essere un po' da parte di Francesco una battuta sul fatto che abbiamo continuamente aggiornato il numero dei come dire delle omiche eccetera siamo d'accordo sono eccessive però dico a parte questo lasciano il tempo che trovano questi giochi linguistici alcuni di questi sono importanti perché dietro a un discorso per esempio sull'epigenoma e metagenoma e l'ologenoma c'è un passaggio anche di valore importante perché indubbiamente l'idea che noi abbiamo un genoma complesso che non è fatto solo dalle nostre sequenze ma da tutte le altre è importante l'esposoma è analogamente un termine generico però è vero che analizzare il modo in cui tutti lì da un lato antigeni dall'altro le molecole dall'altro perfino i campi più o meno elettromagnetici sembrano poter interferire sull'epigenoma e insomma sta diventando una parte dell'epigenetica non solo molecolare ma sistemica molto importante quindi chiaramente via via che si studiano questi aspetti c'è l'esigenza di cambiare anche la terminologia bene domande risposte velocissime perché ce ne sono tante vorrei più o meno leggerle tutte plastica per Attilio per Attilio plastica e microonde professor Boner è sicuro riscaldare il latte formulato in forno a microonde come scritto in un documento SIP di anni fa basta mettere dentro di un contenitore di vetro contenitore bene so se Ernesto ha altre informazioni forse no sono d'accordo il discorso dell'età il misfenolo per caso il misfenolo che è anche per uno che aumenta l'obesità il misfenolo per esempio premessa è l'importanza dell'epigenetica nella programmazione del software genetico quanto contano le varianti genetiche quelle che chiamavamo polimorfismo nello sviluppo di patologie penso per Ernesto sempre beh sì per me ma anche per Attilio facciamo un minuto l'uno io sono convinto che non è che l'epigenetica faccia fuori la genetica fa fuori la genetica lineare determinista cioè i polimorfismi e le mutazioni ci sono non sono la causa del fenotipo sono delle componenti di una come si potrebbe dire di una congerie di determinanti per di più il software che via via si sovrammette all'hardware genetico modula non solo l'espressione ma anche la programmazione ma è chiaro che alcuni polimorfismi più o meno significativi ci sono e anche delle mutazioni e che prima si pensava che quelle fossero la causa delle variazioni fenotipiche era proprio questo modello semplicistico determinista lineare che è stato ormai si spera definitivamente abbandonato bene professor Bonner può indicarci il chart di percentili per bambini meno di due anni penso sono le classiche penso che le abbiate si trovano si si trovano con tranquillità come comportarsi con un bambino sovrappeso obeso nei primi sei mesi di vita allattato esclusivamente al seno rispondo io fare nulla primi sei mesi di vita allattato al seno vai tranquillo nessun problema sono utili davvero gli apparecchi per la depurazione dell'aria in ambito domestico ma qua guardate c'è un è un tema anche questo complesso noi abbiamo per ora in sperimentazione un vero depuratore cioè un depuratore di quelli che funzionano sullo 0-1 ed è sperimentale però perché spara elettroni e blocca il particolato oltrafine se in futuro per esempio nel caso di per esempio ambienti in cui si rischia di avere diffusione di virus si potranno utilizzare questi dispositivi questi funzioneranno alla grande con un flusso e quindi con la possibilità di riciclare l'aria attraverso questo tipo di dispositivi ma quelli che vengono spacciati oggi per depuratori d'aria sono niente quelli veramente sono nulla come anche molti di questi dispositivi che dovrebbero fare fuori i virus hanno spesso più controindicazioni peraltro possono essere anche pericolosi per esempio quelli che formano molto ozono eccetera bene per la prevenzione dell'allergia all'acaro servono i purificatori d'aria con ventilazione e filtraggio EPA assolutamente inutili perché l'acaro non resta aerodisperso gli acari e le particelle fecali che hanno un diametro intorno ai 10 micron e non sono aerodispersi per il prof Bonner rivedere la diaposidia sulla dermatite atopica forse un po' qualcosa per la dermatite atopica diaposidia per la dermatite per la terapia della dermatite atopica allora ci manda le relazioni no no la relazione viene registrata viene registrata si può rivedere viene realizzato un filmato su come si fa e vi mandano anche il filmato sia per la dermatite che per i lavaggi nasali bene ci sono complimenti complimenti per questa sera argomenti importantissimi resta disponibile la registrazione sì grazie grazie ringraziamo a tutti ancora una domanda epigenetica bambina tottati da madri tossicodipendenti quando può essere efficace come l'azione dei genitori adottivi ci sono studi su esi dell'età adulta sono casi insomma già una madre tossicodipendente che adotta dei bambini non lo so sono casi un poco esagerati e un poco rari insomma voglio dire quindi si può ipotizzare di agire come società scientifica per chiedere di chiudere gli allevamenti intensivi di polli non lo so tutto si può fare però scusate qui è un discorso credo che ha fatto vedere delle bellissime diapositive lo sapete che il 65% della massa degli animali sulla terra ormai sono animali di allevamento il 30% circa siamo noi e la massa degli animali liberi sulla terra sono il 4% capite qual è il problema cioè è che noi abbiamo trasformato la biosfera in una specie di prigione per massa di animali che lì contiene quasi tutti abbiamo lasciato liberi il 4% quindi capite o c'è una conversione profonda dell'umanità o è difficile immaginare che si possa risolvere un problema che però appunto giustamente è la vera causa delle pandemie perché la gran parte delle pandemie sono lo spillover di virus che vengono fuori da allevamenti intensivi e comunque da serbatoi animali che sono stati nel giro di 30 anni trasformati guardate il picistrello che è costretto dalle deforestazioni a migrare nelle megalopole eccetera quindi è un problema immenso le immagini che ha fatto vedere Attilio poco fa sono la vera causa di questo dramma che stiamo vivendo la base è questo lo sappiamo da 25 anni ma non si è fatto nulla e temo che non si farà nulla Ernesto ha ancora una domanda per te dice sulla ricerca degli studi ha mostrato l'attività delle sirtuine che riesce a rallentare ridurre il rischio di malattie come il cancro le patologie metaboliche e le neurodegenerative vuoi dirci qualcosa in più su queste sirtuine no ma il discorso anche qui vorrei che anche Attilio ci dicesse la sua io sono scettico non perché non funzionano per esempio le molecole che agiscono inibendo come in questo caso le deacetilasi o altri enzimi è che l'epigenetica vista in modo riduzionista come una piccola parte della genetica e quindi le terapie epigenetiche viste come si vedono le terapie molecolari di vecchio diciamo di vecchia di vecchio inquadramento non è il modo in cui noi stiamo cercando di considerare la terapia del cancro la terapia del cancro come ho accennato a mio parere nel futuro sarà un tentativo di agire a livello sistemico e ci sono molte sostanze che aiutano il software epigenetico a ritrovare assetti più armonici non la molecola che va a colpire il singolo enzima è ancora una volta a mio parere un modo un po' riduzionista di considerare le conoscenze epigenetiche possono funzionare ma le terapie del cancro del futuro a mio parere sono molto più di tipo appunto sistemico e comunque in cui devono indurre l'intero tessuto se non l'intero organismo a riprendere un percorso differenziativo più corretto la molecola singola insomma può fare ma non è il modo in cui a mio parere si debba procedere Attilio vaccinati o non vaccinati è utile continuare a prendere integratori come magnesio curcuma vitamina D svederolo insomma mantenere il sistema immunitario immunoallertato ecco ci chiamiamo diciamo così da una serie di integratori ma allora non è questione di allertarlo è questione di modularne modulare l'efficacia allora io assumo dal 2012 2000 unità di vitamina D al giorno prendo il magnesio prendo selenio col selenio bisogna stare attenti a non eccedere perché ci si può intossicare ma intossicarsi in Europa è molto difficile è più facile negli Stati Uniti perché negli Stati Uniti tutti gli alimenti sono molti alimenti sono supplementati con selenio magnesio ginkgo selenio lo prendo prendo anche la curcuma perché ha un effetto preventivo sull'Alzheimer e mia mamma ha avuto l'Alzheimer prendo il magnesio il resveratolo perché ha un effetto preventivo sull'infiammazione minima cronica io riprendo perché avevo una grossa familiarità sia per patologia cardiovascolare mio nonno è morto 50 anni di un infarto mio papà ne ha fatti tre prima di morire per un cancro del polmone poi ho anche capito perché è morto di cancro del polmone perché sono riuscito a far smettere di fumare un mare di gente perdonatemi ma era un'emozione che volevo condividere con voi Attilio grazie io voglio veramente ci sono stanno arrivando tantissimi ringraziamenti complimenti ma io non voglio perdermi l'opportunità di ringraziare tutti voi partecipanti e tutti i pediatri italiani che in questo anno e mezzo quasi ormai stiamo in un momento difficile particolare il nostro ruolo veramente un grazie a voi tutti ma diciamo si dice il pediatra il medico in prima fila ma soprattutto vicino alle famiglie cioè siamo le famiglie hanno bisogno dei punti di riferimento e il pediatra è il riferimento di tutta la famiglia e di tutta la famiglia non solo del bambino perché quando è possibile di parlarci anche quanto prima col bambino più piccolo più grande ma soprattutto grazie a dare informazioni spiegazioni conforto la gente è impaurita la gente ha tantissimi dubbi oltre che impoverita e quindi è un ruolo veramente come diceva il professor Bonner indispensabile tirare fuori particolari attitudini dalla comunicazione dall'ascolto perché è molto più importante queste cose in questo momento che di una vera e propria scienza accompagnata sicuramente da informazioni evidenze corrette però il ruolo di comunicatore e di dare informazioni alle famiglie di oggi è veramente importantissimo e vi ringrazio per questo che stiamo state facendo un ringraziamento importante e soprattutto teniamo duro perché diciamo ormai i mesi i prossimi mesi possono portare veramente a qualcosa di buono si dice chi a luglio chi a settembre questa immunità di greggio o quello che sia per tornare veramente a cercare alla normalità o alla pseudonormalità finché caro Attilio poterci vedere alla gran guardia per dire un esempio da vicino poterci parlare ma nel frattempo continueremo con questa modalità che è sicuramente una modalità valida e soprattutto continueremo a fare il nostro lavoro è venuto fuori che è indispensabile è indispensabile per questa nostra nazione il pediatra il pediatra ospedaliera il pediatra del territorio ma che questa opportunità che tutti i bambini che nascono hanno un pediatra di diciamo di famiglia è veramente un fiore all'occhiello un valore aggiunto che non va sprecato e in questo anno e mezzo è venuto fuori ancora di più il valore il peso e quindi grazie al paese Italia grazie ai pediatri italiani e caro Attilio e caro Ernesto voi siete due esempi importanti io credo che se non volete aggiungere più nulla ci possiamo salutare siamo andati ben oltre sono circa tre ore però da quello che leggo è stato bello è stato siamo stati bene vi ringraziamo ci abbracciamo e andiamo a riposarci per un'altra grande giornata di lavoro da domani grazie 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 buonanotte grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti